La predicatrice non c'è Avremmo dovuto già iniziare Non aspetto più Ehi, sorella Ehi, Xiaowan, ora ti presenti, sei in ritardo Ti stanno aspettando tutti Ehi, Xiaowan Xiaowan, c'è il tuo sermone, perché sei in ritardo? Stavo cercando le informazioni per il sermone Ho letto molti libri spirituali E ho fatto molte ricerche online Ma non sono riuscita a mettere nulla su carta Sono venuta qui per dirvelo Non ho nulla da predicare io Fatelo voi Cosa facciamo? Non ho un sermone pronto A te, Mangai? Andrebbe di farlo? Io? È da tanto che non sento operare in me lo Spirito Santo Quindi nemmeno io niente È meglio che lo faccia uno di voi Ehi, fratello Dingha! Non posso farlo Tenere sermone mi spaventa ora Potrei solo riportare lettere e dottrine senza contenuti Fuorvierei solo le persone Siamo già in ritardo Tao Wei Perché non lo fai tu oggi? Sì, va bene Forza, andiamo Sto davvero per farlo Sto davvero per farlo Ho paura dei sermoni Che devo fare? Signore, la chiesa è un luogo freddo oggi Abbiamo perso l'opera dello Spirito Santo E ne siamo affamati Noi predicatori non sappiamo cosa predicare Signore, per favore aiutaci Senza la tua opera Ci limitiamo a usare la teologia Per analizzare la Bibbia Ma così non possiamo aiutare nessuno Diventa solo un mero servizio religioso Signore, ciò che abbiamo predicato in passato Non era ciò che volevi Ma ora cosa possiamo fare? Apriamo la Bibbia E andiamo a Giovanni, capitolo 4, versetto 14 Dobbiamo accortarci Il Signore Gesù disse Ma chi beve dell'acqua che io gli darò Non avrà mai più sete Anzi, l'acqua che io gli darò Diventerà in Lui una fonte d'acqua Che scaturisce in vita eterna Nelle parole del Signore Trovavamo l'illuminazione e la rivelazione Dello Spirito Santo Ed anche come viverle La parola del Signore Era come il fiume della vita Che dissetava i cuori E ci dava il sostentamento E potremmo discuterne all'infinito Ma adesso Non sentiamo la presenza del Signore E non capiamo la verità nelle Sue parole In tale situazione Possono le parole Che ci ha lasciato Diventare l'acqua viva Nei cuori che sgorga nella vita eterna Questo è il vero problema Sì, sono d'accordo Ma sì Chiedo sia giusto Senza lo Spirito Santo Abbiamo ancora l'acqua viva Senza lo Spirito Santo Possiamo avere la verità E ricevere la vita No, certo che no Ora è il tempo del ritorno del Signore Ma non sentiamo l'opera dello Spirito Santo Abbiamo letto e condiviso la parola del Signore Ad ogni riunione Ma non riusciamo a mettere in comunione La verità delle Sue parole E non abbiamo nulla da dire Non possediamo la realtà della verità E non possiamo aiutare i fratelli e le sorelle Allora, perché accade questo? Io penso che sia l'argomento da trattare oggi Sì, è un'osservazione giusta Sì, è così Sono d'accordo La predicatrice non ha nulla da dire Noi abbiamo fame di verità Siamo deboli e negativi E alcuni non sono né freddi né caldi È proprio come la chiesa di Laodicea Del libro dell'Apocalisse Il Signore ci ha allontanato da sé Eh, sorella Tao Non sei diventata capo della chiesa di Laodicea? Come fai ad avere qualcosa da predicare Se siamo tutti tiepidi? Dato che lo dici Magari è questa la ragione Quelli tiepidi nella fede saranno eliminati Quindi cosa dovremmo fare? Concentriamoci sul libro dell'Apocalisse Su quale chiesa dobbiamo concentrarci? Quale tipo di chiesa sarà rapita? Se noi non saremo rapiti Abbiamo solo sprecato tempo Insomma, dobbiamo attivarci È molto importante Fratelli e sorelle Perché non sentiamo l'opera dello Spirito Santo? Perché c'è così tanta fame nella chiesa? Perché il mondo religioso è così freddo e desolato? Ci deve essere un mistero in tutto questo Dovremmo pregare tutti insieme il Signore E cercare la Sua volontà Il Signore Gesù disse Se alcuno ha sete, venga a me e beva Chi crede in me, come ha detto la scrittura Fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno Il Signore Gesù è sorgente d'acqua viva Ma al momento noi non ne possiamo ricevere Avete mai pensato che il Signore potrebbe riapparire? Abbiamo tutti sete di giustizia E dobbiamo cercare le orme dell'opera del Signore E ora dobbiamo fare condivisione Riguardo a dove trovare l'opera dello Spirito Santo E tutte le sue espressioni Certo Ciò influenza il futuro e il destino di ogni credente Cosa pensate riguardo a questo? La desolazione nella chiesa non è stata improvvisa È da molto che non avvertiamo lo Spirito Santo Qui non c'è la fonte di vita Dobbiamo cercare le orme dell'opera del Signore Sì Molte previsioni sul ritorno del Signore si sono avverate Stanno ormai accadendo disastri in tutto il mondo Le chiese si stanno spopolando Il Signore potrebbe essere tornato E magari è già apparso da qualche parte per operare Ma noi non ne siamo a conoscenza Il Signore è tornato, impossibile Se Lui è davvero tornato Non dovremmo essere stati rapiti È vero Se resteremo fedeli al Signore Saremo rapiti e condotti nel regno dei cieli Amen Esatto Quando parliamo del rapimento Non dovremmo usare la nostra immaginazione Perché la mente di Dio va oltre quella dell'uomo Non sappiamo che cosa voglia dire Entrare nel regno dei cieli E che cosa farà il Signore al suo ritorno Non abbiamo modo di saperlo Inoltre siamo negativi, deboli e peccatori Il Signore è santo E non sappiamo se al suo ritorno possiamo essere rapiti Ed entrare nel regno dei cieli La chiesa oggi è desolata L'anima è nel buio E non sentiamo la presenza del Signore Il nostro compito è trovare una chiesa In cui ci sia l'opera dello Spirito Santo E ritrovare le orme del Signore Giusto Dobbiamo iniziare a cercare subito Cerchiamo il luogo in cui il Signore opera Non possiamo essere come le vergini stolte Fratelli e sorelle Credo che dovremmo cercare in altre chiese Qualunque chiesa abbia l'opera dello Spirito Santo E' lì che troveremo l'acqua della vita Siete tutti d'accordo? È vero Credo che sia la cosa giusta Siamo come le vergini sagge E cerchiamo le orme del Signore Quando Canaan fu colpita dalla carestia Giacobbe e la sua famiglia se ne andarono E si recarono in Egitto A cercare cibo per sopravvivere al disastro Diamo un'occhiata alla Genesi capitolo 41 versetto 53 Leggiamo insieme I sette anni d'abbondanza che erano stati nel paese d'Egitto Finirono e cominciarono a venire i sette anni della carestia Come Giuseppe aveva detto E ci fu carestia in tutti i paesi Ma in tutto il paese d'Egitto c'era del pane Poi la carestia si è stesa a tutto il paese d'Egitto E il popolo gridò al faraone per avere del pane E il faraone disse a tutti gli egiziani Andate da Giuseppe E fate quello che vi dirà La carestia era sparsa su tutta la superficie del paese E Giuseppe ha perso tutti i depositi E vendè grano agli egiziani E la carestia si aggravò nel paese d'Egitto E da tutti i paesi si veniva in Egitto da Giuseppe Per comprare del grano Perché la carestia era grave per tutta la terra Or Giacobbe vedendo che c'era del grano in Egitto Disse ai suoi figuoli Perché vi state a guardare l'un l'altro? Poi disse Ecco ho sentito dire che c'è del grano in Egitto La situazione nel mondo religioso È simile a quella di Canaan oggi Dobbiamo trovare la chiesa in cui opera lo Spirito Santo Là dove troveremo l'opera dello Spirito Santo Ci sarà il Signore Dove troveremo lo Spirito Santo Troveremo l'apparizione del Signore Il Signore Gesù disse Chiedete e vi sarà dato Cercate e troverete Picchiate e vi sarà aperto Il Signore mantiene le promesse Se seguiremo la Sua parola Lui ci guiderà sempre Ha ragione Io sono d'accordo Sono d'accordo anch'io Comunque le chiese domestiche di tutto il paese Subiscono un'oppressione crudele E arresti da parte del governo del PCC Sono clandestine ormai da tanti anni E nessuno osa organizzare incontri pubblici Per noi sarà molto pericoloso Cercare la chiesa Con l'opera dello Spirito Santo È vero È meglio che lasciamo perdere No No, dobbiamo cercare Non possiamo aspettare qui Dobbiamo essere fedeli Per vedere l'apparizione di Dio Dobbiamo cercare Anche se è pericoloso È vero Giusto Dobbiamo continuare a cercare Ma Se non conosciamo nessun altro Se non abbiamo un punto di partenza È come cercare un ago in un pagliaio Non lo troveremo Dobbiamo avere Un punto di partenza È necessario Giusto È vero Sì, dobbiamo procedere in qualche modo Dobbiamo avere un punto di partenza La Cina è enorme Dobbiamo sapere da dove iniziare Di qualcosa Ha ragione Io ho un'idea Che cosa teme di più il regime di Satana? Satana teme la verità E soprattutto l'arrivo della luce Quindi dovremmo iniziare con la chiesa Che il PCC teme di più Lì troveremo l'opera dello Spirito Santo E forse la sua espressione E l'apparizione di Dio Siete d'accordo? Sì, ora abbiamo un obiettivo Fratello Ding ha ragione Il PCC è un governo ateo Che odia la verità E resiste davvero a Dio La Cina è davvero grande Ma il PCC sarebbe il primo a sapere Dove appare e opera Dio E scatenerebbe una persecuzione Certo crudele Nei suoi sessant'anni al potere Ha considerato Dio un nemico E ha cercato di fare della Cina Un luogo senza Dio Perciò ovunque Dio appaia e operi Il PCC scatenerà persecuzione E crudele oppressione Ricordo molto bene A Henan La dura repressione degli shooters Quando è stato diffuso il Vangelo Solo a Henan Milioni di persone chiamavano a gran voce Il Signore Gesù Lì lo Spirito Santo operava Ma è stato proprio Per questo Che hanno dovuto patire La peggiore delle oppressioni Fratello Yang Hai ragione Gli shooters hanno affrontato La più dura persecuzione dal PCC Ma oggi Gli attacchi L'inasprimento La condanna E gli arresti Sono diretti al lampo da Levante È una cosa che sanno tutti quanti In Cina Il governo del PCC Sta sopprimendo e perseguitando La Chiesa di Dio Onnipotente E inoltre inventa prove Per distorcere i fatti E diffamare il nome Della Chiesa di Dio Onnipotente L'abbiamo visto sui giornali E anche online Perché il PCC Ha scatenato questa condanna Nei confronti della Chiesa di Dio Onnipotente È un mistero divino Perché il PCC è un potere satanico E sa su quale chiesa opera lo Spirito Santo Sa in quale chiesa appare il Signore E in quale si esprime la verità Satana sa queste cose prima dell'uomo Quindi il lampo da Levante Potrebbe essere l'apparizione e l'opera del Signore Perché ovunque il vero Dio appaia e operi La condanna contro di Lui sarà più forte E la resistenza e l'oppressione saranno dure Esatto Il governo del PCC pubblica documenti Per vietare il lampo da Levante In ogni città e contea Si trovano slogan e manifesti Con la messa al bando della Chiesa di Dio Onnipotente Nelle fabbriche Nelle scuole Nei villaggi Ovunque C'è propaganda Su come interpretare la soppressione della Chiesa di Dio Onnipotente Lo sanno tutti Ormai è un fatto risaputo Infatti Esatto Stai dicendo la verità Sì, l'ho visto anch'io Se il lampo da Levante è la manifestazione di Dio Posso immaginare che troverà una condanna da parte del PCC Più dura di quanto io non pensi Ma perché i pastori e gli anziani del mondo religioso Sopprimono e condannano così tanto il lampo da Levante? Come si spiega? Sì Loro sono le persone che servono il Signore Se il lampo da Levante è la manifestazione di Dio Perché egli resistono e lo condannano? Ha ragione Sì, è vero Tu che ne pensi? Io non riesco proprio a spiegarmelo Perché? Perché si oppongono? Il Signore Gesù fu crucifisso Perché gli ebrei cospirarono con il governo romano Quindi, ecco perché il mondo religioso Segue il PCC nel condannare Dio onnipotente Alcuni non capiscono che l'essenza della religione È resistere a Dio Così, esso facilmente in questo modo Li inganna e li svia Quando il Signore Gesù venne a compiere la Sua opera I più alti dirigenti dell'ebreismo Si unirono al governo romano Per resistergli e condannarlo E infine lo condannarono e lo crocifissero Questo è un dato di fatto Quando il vero Dio appare per compiere la Sua opera Sarà oppresso, perseguitato dal mondo religioso E anche dal potere dominante Proprio come si dice nella Bibbia Tutto il mondo giace nel maligno E il giudizio è questo Che la luce è venuta nel mondo E gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce Perché le loro opere erano malvagie Il mondo è sotto il controllo del malvagio Che scaccia l'esistenza della luce Quando il vero Dio viene tra gli uomini Per compiere la Sua opera Sarà rifiutato Il fatto che il Signore Gesù sia stato crocifisso È realmente la prova che Dall'età della grazia Il mondo religioso è controllato dai farisei ipocriti Ovvero gli anticristi E quindi Il mondo religioso segue il governo del PCC Per condannare Dio Non è difficile da capire Sì Il Signore Gesù così profetizzò Perché Com'è il lampo che balenando risplende Da un'estremità all'altra del cielo Così sarà il figliol dell'uomo Nel suo giorno Ma prima Bisogna che soffra molte cose E sia reietto da questa generazione Da questa profezia Capiamo che quando il Signore Gesù Tornerà negli ultimi giorni Soffrirà e sarà rifiutato dalla generazione Ora solo il lampo d'Alevante Patisce la peggiore resistenza Condanna e persecuzione Da parte del mondo religioso Per questo È probabile che il lampo d'Alevante Sia l'apparizione del Signore Se questo è il modo in cui il Signore Sceglie di apparire Allora ciò è molto saggio e significativo Ed è davvero incomprensibile per noi uomini Solo la Vergine Saggia Scopre l'apparizione del Signore Mentre la Vergine Stolta Segue la comunità e il mondo Nel condannare la Sua apparizione E così sarà facile Non essere salvati negli ultimi giorni Sì, già Sì, sarà possibile Grazie a Dio Finalmente abbiamo una via da percorrere Per trovare l'apparizione del Signore Iniziamo con il lampo d'Alevante E vediamo che cosa può indicarci Il lampo d'Alevante può essere l'apparizione del Signore E può possedere le parole dello Spirito Santo Dobbiamo cercarli Grazie a Dio Allora, è quello che faremo Inizieremo con il lampo d'Alevante Però, come troviamo i membri del lampo d'Alevante? Ho sentito che il lampo d'Alevante ha un sito Che contiene molti libri, canzoni e film Possiamo guardare lì? No, non possiamo farlo online Il PCC controlla internet ed è pericoloso Girando il Great Firewall Vedremo il sito del lampo d'Alevante Vado a casa E provo a scaricarvi alcuni libri del lampo d'Alevante Bene, va bene Mio figlio si intende di informatica Gli chiederò di insegnarmi come superare il Great Firewall Per poi andare sul sito del lampo d'Alevante Ha ragione Mi sono ricordato che ho parenti seguaci del lampo d'Alevante Una volta, la polizia li ha arrestati Chiederò che cosa è successo Bene, allora ognuno agirà da solo Vai a trovare i seguaci del lampo d'Alevante Andrò oggi stesso Fratello Xin Agira il Great Firewall e guarda il sito web Certo, ci penso io Che bello Cercheremo la verità Si è ringraziato Dio Sono due sorelle della Chiesa di Dio Onnipotente Salve a tutti Mi chiamo Suran Salve Sono Tian Xin Vi presento sorella Tao, sorella Yi, sorella Sun e fratello Feng Grazie a Dio Grazie a Dio Grazie a Dio Perché così tante Chiese sono affamate e desolate? Cosa sta succedendo? È vero Tutte le Chiese sono vuote e desolate E non riusciamo a sentire la presenza del Signore Che cosa sta succedendo? Ci capita di assistere a disastri sempre più gravi Le profezie sulla nuova manifestazione del Signore Negli ultimi giorni si sono avverate Forse il Signore è già venuto E noi non lo sappiamo Vi abbiamo invitato qui oggi Per dare delle risposte a queste domande Riguardo la desolazione nelle Chiese Voi cosa ne pensate? Vorrei sentire la vostra opinione Sì Abbiamo bisogno di andare in fondo alla questione Condividiamo quanto pensiamo La domanda che hai posto è molto importante Sappiamo tutti Che viviamo alla fine degli ultimi giorni Il Signore Gesù profetizzò E perché l'iniquità sarà moltiplicata La carità dei più si raffredderà Quindi il mancato rispetto nel mondo della religione Sta crescendo I capi religiosi non rispettano i comandamenti Ma solo le tradizioni degli uomini Predicano solo la conoscenza biblica Per mettersi mostra e testimoniare se stessi Non testimoniano Dio o non lo esaltano affatto E si sono allontanati dal Signore Ecco perché Dio li respinge e li elimina Questo perché il mondo ha perso l'opera dello Spirito Santo Ma anche perché il Signore Gesù è tornato nella carne Iniziando l'opera di giudizio Che ha inizio nella casa di Dio negli ultimi giorni Mentre Cristo degli ultimi giorni Dio Onipotente Esprime tutta la verità sulla salvezza dell'umanità Per purificare chi accetta l'opera di Dio degli ultimi giorni L'opera dello Spirito Santo Si rivolge all'opera di Dio degli ultimi giorni Chi accetta l'opera di Dio Onipotente Negli ultimi giorni Riceverà l'opera dello Spirito Santo E il nutrimento dell'acqua viva della vita Dio renderà vincitori Coloro che ritornano davanti al Suo trono E li condurrà secondo la Sua volontà Mentre quelli che si rifiutano di accettare L'opera di Dio degli ultimi giorni Saranno lasciati nella desolazione oscura Questo prova una profezia della Bibbia E v'ho pure rifiutato la pioggia Quando mancavano ancora tre mesi alla mietitura Ho fatto piovere sopra una città E non ho fatto piovere sopra un'altra città Una parte di campo ha ricevuto la pioggia La parte su cui non ha piovuto è seccata Due o tre città vagavano verso un'altra città Per bevere dell'acqua E non potevano dissetarsi Ma voi non siete tornati a me Qui una parte di campo ha ricevuto la pioggia Si riferisce alle chiese Che accettano l'opera di giudizio di Dio Negli ultimi giorni Hanno accettato le parole attuali di Dio E così hanno goduto del nutrimento dell'acqua viva Che scorre dal trono E la parte su cui non ha piovuto è seccata Si riferisce ai pastori e agli anziani religiosi Che non mettono in pratica le parole e i comandamenti di Dio E respingono e condannano l'opera di Dio Onnipotente degli ultimi giorni Questo fa sì che il mondo sia rifiutato e maledetto da Dio Perda l'opera dello Spirito Santo E l'accesso all'acqua viva della vita E rimanga intrappolato nella desolazione Come alla fine dell'età della legge Quando il Tempio pieno della gloria di Yahweh Dio rimase desolato Il popolo ebraico non si attenne alle leggi di Dio Furono compiuti i sacrifici impropri E il Tempio divenne un luogo di commercio Un covo di ladri Quindi perché successe questo? Perché i capi religiosi ebrei non rispettavano le leggi di Yahweh Dio E non avevano il timor di Dio Si attenevano alle tradizioni degli uomini Ma rispingevano i comandamenti di Dio Si allontanavano dalla via di Dio E per questo Lui li maledisse Ma un'altra ragione era che Dio si era incarnato Per compiere l'opera di redenzione nell'età della grazia L'opera di Dio era cambiata Chi accettò l'opera di redenzione del Signore Gesù Ricevette l'opera dello Spirito Santo E un nuovo modo di mettere in pratica la fede Ma quelli che rifiutarono e resistettero all'opera del Signore Gesù Furono eliminati dall'opera di Dio E caddero nella totale desolazione Se volete ricevere l'opera dello Spirito Santo E ottenere il nutrimento dell'acqua viva La cosa più importante da fare è cercare e indagare L'opera di Dio Onipotente degli ultimi giorni Questo estirperà l'oscurità nei vostri spiriti E la desolazione nella vostra chiesa Non la pensate così? Ora tutto acquista un senso È vero? Grazie a Dio Dopo quello che hai detto Ho capito questo La desolazione nel mondo religioso Avviene perché i pastori e gli anziani Non seguono la via del Signore Non praticano le Sue parole E non osservano i Suoi comandamenti E in questo modo vengono rifiutati e maledetti da Dio È perché Dio ha condotto una nuova opera E quella dello Spirito Santo si è spostata Non abbiamo tenuto il passo con Dio E siamo caduti nelle tenebre Dobbiamo cercare l'opera di Dio Onipotente negli ultimi giorni Ringraziamo Dio Ho chiamato in causa tanti pastori E nessuno ha saputo il motivo della desolazione delle chiese Ma l'incontro di oggi ha chiarito tutto Siamo stati illuminati dallo Spirito Santo Si è ringraziato Dio Tu dici che il mancato rispetto della legge È dovuto ai religiosi che non obbediscono ai comandamenti E che si sono allontanati dalla sua via Ma vediamo che i pastori e gli anziani Sono persone che servono il Signore E sembrano uomini devoti Perché mancherebbero di rispetto alla legge? È vero Perché i pastori farebbero qualcosa che va contro la legge? Non bisogna vederla così Insomma, i sacerdoti, gli iscrivi e i farisei nell'ebraismo Erano persone che servivano Dio nel Tempio Ma quando il Signore Gesù venne per condurre la Sua opera Incitarono gli altri a condannarlo Sì E arrivarono a cospirare con il governo romano per crocifiggerlo Voi come lo spiegate? Oggi molti pastori e anziani Non farebbero conoscere ai credenti il lampo d'elevante Addirittura lo calunnano E lo condannano persino E denunciano i predicatori del Vangelo di Dio Onnipotente alla polizia Non vi sembrano illeciti questi atti? Ve ne siete dimenticati? Fratello Ding ha appena parlato di alcuni atti illeciti Quindi a cosa ti riferisci quando dici che il mancato rispetto della legge aumenta? Ancora non lo capisco Quindi vorrei che me lo spiegassi Questo significa che quei capi religiosi, pastori e anziani Si schierano contro Dio E vanno decisi per la propria strada Inoltre, non seguono i comandamenti E interpretano male la Bibbia per incatenare e ingannare le persone Affogandole nella teologia biblica E allontanandole da Dio Trasformando le chiese in luoghi di rito religioso E utilizzando le loro responsabilità e doveri Come accesso allo status e al denaro Che causano molti atti ipocriti di resistenza a Dio nella chiesa Molte persone si sono rivelate miscredenti Perseguono i piaceri del mondo Allontanandosi da Dio E trasmettono le parole di Dio come se fossero favolette Non credono affatto che il Signore Gesù verrà di nuovo per parlare e operare Sono stati smascherati soprattutto quei capi religiosi E anche tutti quegli uomini miscredenti Che non amano per nulla la verità E inoltre loro Negano l'opera di Dio degli ultimi giorni Questi pastori e anziani religiosi Predicano la conoscenza e la teologia biblica Si sforzano di proteggere la propria posizione La propria influenza Ma si rifiutano di seguire la via del Signore O diffonderne la parola Non esaltano affatto né testimoniano il Signore Predicano invece cose che tradiscono la verità della parola di Dio E utilizzano le falsità e le tradizioni umane Per ingannare e controllare le persone Invocando ostinatamente la via dei farisei della resistenza verso Dio Molti pastori e anziani religiosi perseguono anche i piaceri del mondo Amano la moda Bramano il denaro E lottano per lo status Sono solo uomini del mondo Veri miscredenti La cosa più vergognosa è che questi capi religiosi Pastori e anziani Utilizzano la condanna dell'opera di Dio negli ultimi giorni Per ingannare e controllare i credenti E arrivano a cospirare con il regime del PCC Collaborando con Satana contro Dio Sforzandosi di creare i propri regni E crocifiggere nuovamente Dio Questo è il motivo per il quale Dio li odia e li maledice Questi atti illeciti sono davanti agli occhi di tutti noi Non sono altro che un tradimento del mondo religioso E a causa dell'aumento di questi atti illeciti La fede e l'amore di molti credenti si sono raffreddati E i credenti si sono indeboliti E sono diventati pessimisti Siccome questi capi religiosi hanno scelto la loro strada E non seguono più la via di Dio L'opera dello Spirito Santo è stata ritirata E le sedi religiose sono state abbandonate L'opera dello Spirito Santo si è spostata Su coloro che accettano l'opera di Dio onnipotente degli ultimi giorni Qui vediamo che l'indole giusta di Dio Non tollera offese da parte dell'uomo Ciò che hai detto sono tutte cose vere Non mi meraviglia che il mondo religioso Sia così oscuro e desolato oggi È perché i pastori e gli anziani religiosi Hanno preso la loro strada E non seguono più la via del Signore Così Dio li odia e li maledice Hanno accettato l'opera di Dio onnipotente negli ultimi giorni E hanno spiegato perfettamente La ragione della desolazione nel mondo religioso Quanto pare il lampo d'Alevante possiede la verità Indaghiamo Abbiamo appena condiviso alcune delle ragioni Per le quali il mondo religioso è così desolato Ma questo era solo l'inizio Avete anche chiesto cosa si intende per aumento del mancato rispetto della legge A questo sorella sua ha risposto appieno E voi avete capito Ora vorrei aggiungere il mio punto di vista Sulle cause profonde della desolazione nel mondo religioso Per prima cosa leggiamo due brani di Dio onnipotente Che ci aiuteranno a comprendere meglio le cause della desolazione nella religione Dio onnipotente dice Porterà a compimento queste cose Farà venire dinanzi a Lui tutte le persone dell'universo E farà in modo che tutti adorino il Dio in terra E la Sua opera in altri luoghi cesserà E la gente sarà costretta a cercare la vera via Accadrà come avvenne con Giuseppe Tutti vennero a Lui per il cibo E si prostrarono davanti a Lui per questo Al fine di evitare la carestia Le persone saranno costrette a cercare la vera via L'intera comunità religiosa sta soffrendo una grave carestia E solo il Dio di oggi è la vera fonte di acqua viva Colui che possiede la fonte che scorre in eterno Fornita per il beneficio dell'uomo E la gente verrà e dipenderà da Lui Tutta l'opera di Dio nell'intero universo Si è concentrata su questo gruppo di persone Egli ha dedicato tutti i Suoi sforzi A voi e ha sacrificato tutto per voi Ha rivendicato e ha dato a voi Tutta l'opera dello Spirito nell'universo Ecco perché dico che siete fortunati Dio Onnipotente ha già chiarito la causa della carestia nel mondo religioso Questo ci permette di vedere l'onnipotenza e la saggezza di Dio Lui non ha abbandonato quelli che amano la verità E che hanno sete della Sua apparizione Dio ha usato l'arrivo della carestia per costringerli a cercare la vera via E trovare la volontà di Dio e le Sue orme Tra la desolazione delle chiese Lo ha fatto per aiutare quelli di ogni denominazione Che amano la verità E credono veramente in Dio Per giungere davanti al Suo trono Quindi Dio dice Tutta l'opera di Dio nell'intero universo Si è concentrata su questo gruppo di persone Da questo possiamo vedere che l'opera dello Spirito Santo Si è spostata presso coloro che accettano l'opera di Dio negli ultimi giorni E questa è la riprova Che Dio vuole che coloro che giungono al cospetto del Suo trono Siano coloro che rimangono vicini al Suo cuore Queste sono le persone che saranno rese vincitrici da Dio prima del disastro E così saranno confermate le profezie del Signore Gesù sulle vergini sagge Che partecipano al banchetto nuziale con l'agnello Quanto alle vergini stolte Non importa quanto desolate o oscure diventino le loro chiese Quanto rimangano al loro interno e aspettino la morte Sono come gli israeliti che morirono nel deserto Dopo essere stati condotti fuori dall'Egitto Tutto il mondo religioso è diventato un luogo in rovina Principalmente perché i Suoi capi seguono la via dei farisei E tradiscono le intenzioni del Signore Non seguono la volontà di Dio Non obbediscono ai comandamenti del Signore E sono stati abbandonati da Dio molto tempo fa Attraverso la verità che Dio incarnato esprime negli ultimi giorni Viene smascherata la loro natura e sostanza di anticristi E diventano quelli che crocifiggono nuovamente Dio E che Lui maledice Qual è lo scopo di Dio nel far sì che il mondo religioso affronti la carestia? Vuole costringere le persone a cercare la vera via Solo coloro che desiderano cercare la voce di Dio E che accettano l'opera di giudizio di Dio onnipotente negli ultimi giorni Riceveranno di nuovo l'opera dello Spirito Santo Il nutrimento dell'acqua viva della vita che scorre dal Suo trono E infine verranno salvati E a loro sarà permesso di entrare nel Regno dei Cieli Sono queste le persone che il Signore Gesù profetizzò Che sarebbero state rapite e condotte nel Regno dei Cieli Se neghiamo il giudizio, il castigo, la purificazione e la salvezza Provenienti dalle parole di Dio onnipotente Saremo abbandonati ed eliminati in eterno Ora leggiamo un altro brano di Dio onnipotente Infatti, Ciò a cui ti opponi non è un uomo Ciò che rinneghi non è un qualche essere insignificante Ma Cristo stesso Sei consapevole di questa conseguenza? Non hai commesso un piccolo errore Ma un crimine atroce E perciò consiglio a tutti Di non mostrare i denti davanti alla verità E di non avanzare critiche avventate Poiché solo la verità può portarti la vita E nulla, tranne la verità, può consentirti di rinascere E di contemplare il volto di Dio Le parole di Dio onnipotente hanno autorità Se Dio onnipotente è davvero la seconda venuta del Signore Gesù Dobbiamo accettare e obbedire subito all'opera di Dio onnipotente Negli ultimi giorni È l'unico modo in cui possiamo ricevere il nutrimento Dalla fonte delle acque vive E sfuggire alla desolazione e alle tenebre Che abbiamo percepito in passato Esatto, abbiamo aspettato ogni giorno che il Signore venisse Se il Signore è davvero tornato Allora possiamo essere rapiti e presentarci al Suo cospetto E tutti i nostri problemi saranno risolti Avete spiegato chiaramente la causa Alla radice della desolazione nel mondo religioso Ma dite Che Dio si fa carne negli ultimi giorni Per compiere l'opera di giudizio Questo ha qualche fondamento nella Bibbia O adempie qualche profezia biblica Senza una base biblica Non dovremmo essere così pronti a crederci Sì Crediamo nel Signore attraverso la Bibbia E se il Signore è tornato è una grande domanda E bisogna rispondere usando la Bibbia È vero C'è una profezia molto chiara nella Bibbia Su Dio che si fa carne negli ultimi giorni Per compiere l'opera di giudizio Diamo un'occhiata ad alcuni versetti della Bibbia In Atti degli Apostoli, capitolo 17, versetto 31, dice Poi in Giovanni, capitolo 5, versetto 27 Egli ha dato autorità di giudicare Perché è il figliuolo dell'uomo Ancora in Giovanni, capitolo 5, versetto 22 Oltre a ciò, il padre non giudica alcuno Ma ha dato tutto il giudizio al figliuolo Questo ci mostra chiaramente Che negli ultimi giorni Dio si fa carne come figlio dell'uomo Per compiere l'opera di giudizio tra gli uomini Il figlio o il figlio dell'uomo nelle profezie Deve riferirsi alla carne incarnata L'opera di giudizio che ha inizio nella casa di Dio Compiuta da Dio Onnipotente Cristo degli ultimi giorni Adempie la profezia biblica Secondo cui il figlio dell'uomo Compirà l'opera di giudizio negli ultimi giorni Questi sono tutti fatti innegabili Ho letto gli stessi versetti della Bibbia Ma ho ignorato le parole figlio dell'uomo Il Signore Gesù ha parlato molto chiaramente E gli ha dato autorità di giudicare Perché è il figliuol dell'uomo Questo non significa che Dio si incarnerà Come il figlio dell'uomo per eseguire il giudizio Adesso mi è tutto chiaro L'opera di giudizio negli ultimi giorni Si compie attraverso Dio incarnato Questo adempie la profezia Continuiamo ad ascoltare Tutti gli avvenimenti dell'opera di Dio Sono profetizzati nella Bibbia E ci sono profezie relative Alla seconda venuta del Signore Gesù E all'opera di giudizio di Dio Però quello che dovremmo capire È che le profezie dicono alle persone solamente che cosa accadrà Ricordano alle persone di essere vigili E che devono cercare e indagare negli ultimi giorni E in questo modo non saranno abbandonate da Dio Questo è tutto ciò che possono fare le profezie Le profezie non possono aiutarci a conoscere l'opera di Dio Né tantomeno a capire la verità O ad aiutarci a dubidire a Dio O ad accrescere il nostro amore per Lui Quindi il miglior cammino è quello di studiare Le parole di Dio Onnipotente E l'opera da Lui svolta E da queste determinare se sono veramente la voce E l'espressione di Dio Questa è la linea di condotta importante e saggia È molto più realistica e utile Della ricerca di una base nelle profezie bibliche Credetemi Sì, sembra più pratica Sappiamo tutti che quando il Signore Gesù venne a compiere l'opera Gli apostoli e i credenti che Lo ascoltavano e Lo seguivano Riconobbero in seguito e solo gradualmente Attraverso la Sua opera e le Sue parole Che il Signore Gesù era Cristo, il Messia I capi sacerdoti, gli iscrivi e i farisei Che conoscevano le leggi e che studiavano la Bibbia Sapevano bene che le parole del Signore Gesù Erano la verità e avevano potere Però, poiché odiavano la verità Non solo si rifiutarono di seguire il Signore Usarono le norme e le regole della Bibbia Per opporsi a Lui e condannarlo E infine, Lo inchiodarono addirittura alla croce Questo ci mostra che la Bibbia non può guidarci O condurci ad accettare il ritorno del Signore Per chi attende il ritorno del Signore La Bibbia serve unicamente da rinforzo Le vergini sagge non accolgono lo sposo usando la Bibbia Quando sentono la voce dello sposo Si accertano che è la voce di Dio E vanno incontro al Signore Coloro che respingono e condannano L'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni E si affidano alla profezia Piuttosto che cercare la voce di Dio Sono sicuramente le vergini più sciocche Quelle che Dio abbandonerà ed eliminerà Quindi le vergini sagge riconoscono Che lo sposo è venuto Perché riescono a sentire la voce di Dio È così illuminante Non l'avremmo mai capito da soli Dobbiamo essere come le vergini sagge E ascoltare la voce di Dio Onnipotente Se riusciamo a sentire la voce di Dio E a riconoscere la Sua opera Nelle parole di Dio Onnipotente Allora siamo veramente benedetti Sì Il Signore disse Le mie pecore ascoltano la mia voce Esaminiamo le parole di Dio Onnipotente E vediamo se sono veramente le parole del Signore Gesù Questo è l'importante Grazie, Signore In passato pensavo che leggere la Bibbia, pregare e lavorare Mi rendesse una vergine saggia Ma oggi mi rendo conto Che l'aspetto più importante di essere una vergine saggia È riconoscere la voce di Dio E se è così Allora quello che dovremmo fare ora È ascoltare le parole di Dio Onnipotente E condividerle di più E sapremo se Dio Onnipotente è il Signore Gesù ritornato Si è ringraziato Dio Ora leggiamo un brano di Dio Onnipotente Fammi leggere Va bene Puoi essere una persona che accetta indiscutibilmente Tutta l'opera dello Spirito Santo Se si tratta dell'opera dello Spirito Santo Allora è il flusso giusto Dovresti accettarlo senza il minimo dubbio Anziché selezionare e scegliere che cosa accettare Il fatto che hai una certa conoscenza di Dio E che eserciti una certa cautela nei Suoi confronti Non è un atto veramente ingiusto Dovresti accettare senza l'esigenza di ulteriore conferma della Bibbia Qualsiasi opera pur che sia dello Spirito Santo Affinché tu creda in Dio per seguirlo Non per esaminarlo Non dovresti cercare ulteriori prove su di me Per dimostrare che io sono il tuo Dio Piuttosto dovresti discernere se ti reco beneficio Questo è il punto Anche se hai scoperto molte prove inconfutabili nella Bibbia Ciò non può portarti completamente al mio cospetto Sei una persona che vive all'interno dei confini della Bibbia E non davanti a me La Bibbia non può aiutarti a conoscermi Ne può approfondire il tuo amore per me Per discernere se Dio Onnipotente è il Signore Gesù ritornato Non possiamo fare affidamento solo sulla Bibbia La cosa più importante è se le parole espresse da Dio Onnipotente Siano davvero la verità Se ciò che Egli esprime è veramente l'indole di Dio E ciò che Lui ha ed è Se le parole di Dio Onnipotente sono la verità La via e la vita necessarie a noi Se possono alleviare tutta la confusione che abbiamo Se possono salvarci dalla nostra indole satanica E dalla natura demoniaca E aiutarci a sfuggire a Satana E a raggiungere la purezza Ed entrare nel regno dei cieli Questo è il fattore più importante Le parole di Dio Onnipotente sono molto chiare La Bibbia non ci svela l'opera di Dio negli ultimi giorni I farisei ebrei cercarono le prove dell'opera del Signore Gesù Nell'Antico Testamento E alla fine decisero di crocifiggerlo Se per trovare le prove dell'opera di Dio negli ultimi giorni Non indaghiamo le parole di Dio Onnipotente Facciamo lo stesso errore dei farisei È vero Dobbiamo stare attenti Non possiamo seguire gli anziani Nel giudicare l'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni O commetteremo il terribile peccato di crocifiggere nuovamente Dio Che saremmo puniti e maledetti da Lui Proprio come dice la Bibbia La fede viene dall'udire E l'udire si ha per mezzo della parola di Cristo Dobbiamo ascoltare Dio Onnipotente E sapremo se le parole espresse da Lui sono davvero la voce di Dio Se sono la verità, la via e la vita Se non ascoltiamo e non indaghiamo Anche se il Signore Gesù è tornato, non lo riconosceremo Esatto Se non leggiamo più parole di Dio Onnipotente Reggini stolte, sta a noi scegliere Dovremmo stare attenti, vero? Sorella, ho un'altra domanda Il Signore Gesù fu crocifisso come sacrificio per il peccato Abbiamo ottenuto la salvezza attraverso la Sua grazia Perché accettare l'opera di giudizio e di purificazione di Dio Onnipotente? Crediamo che il Signore Gesù abbia già perdonato i nostri peccati Non ci considera peccatori Tutto ciò che dobbiamo fare è aspettarlo Perché il Signore ha bisogno di compiere l'opera di giudizio? A proposito di questa domanda, puoi dirci di più? È vero È un punto che in molti non capiscono Ed è una domanda che dobbiamo assolutamente esaminare Abbiamo bisogno di parlarne Quello era il vero significato dell'opera Ma molte persone non capiscono Pensano sempre che l'opera di redenzione del Signore Gesù abbia garantito all'umanità la salvezza e il regno dei cieli Questa nozione proviene dall'immaginazione dell'uomo Ci è stata data la redenzione dal Signore Gesù Questo è vero Ma questo ha cambiato la nostra natura peccaminosa Il fatto che Dio abbia perdonato i nostri peccati significa che siamo stati resi santi Allora perché continuiamo a peccare così? Coloro che peccano hanno davvero l'approvazione del Signore? Non credo Non molte persone hanno considerato questo problema E non abbiamo mai visto nessuno capire veramente quale sia la risposta Il Signore Gesù ci ha redenti da uno stato di peccato I nostri peccati sono stati perdonati Ci è stata data la salvezza Però, mentre crediamo nel Signore e lo seguiamo Spesso tradiamo anche i Suoi insegnamenti E ci abbandoniamo al nostro desiderio carnale di peccare Facciamo cose come mentire Commettere frodi Ingannare Lasciarci coinvolgere in intrighi Cercare fama e fortuna Cediamo alla vanità Bramiamo la ricchezza E seguiamo le tendenze del mondo malvagio Nei momenti di amarezza, di prova Spesso fraintendiamo e incolpiamo Dio O ci allontaniamo persino da Lui E lo tradiamo Quando l'opera di Dio non si accorda con le nozioni dell'uomo Senza il benché minimo riguardo Lo condanniamo Mentre seguiamo Dio Adoriamo e seguiamo gli uomini Viviamo in un circolo vizioso di peccato e pentimento Senza via di uscita Non possiamo liberarci dai vincoli E dal dominio della nostra natura satanica Questo è un dato di fatto E sebbene l'opera di redenzione del Signore Gesù sia compiuta E i nostri peccati perdonati Sebbene non siamo più maledetti per aver violato le leggi di Dio E possiamo presentarci al cospetto di Dio per pregarlo E godere della totalità della Sua grazia Non vuol dire che l'opera di Dio nei confronti dell'umanità sia finita Perché la natura peccaminosa dentro di noi rimane Siamo ancora costretti dalla nostra natura satanica A opporci a Dio E non conoscendo Dio non lo temeremo mai E non ci allontaneremo mai dal male Ancormeno possiamo raggiungere uno stato di completa obbedienza a Dio E di compatibilità con Lui Non siamo stati veramente guadagnati da Dio Sappiamo tutti che Dio è santo e giusto Le persone non sono state rese sante Dio non permetterà all'impuro o al corrotto di entrare nel Suo regno Questo è ciò che ha deciso l'indole giusta di Dio Quindi, negli ultimi giorni Dio, secondo il Suo piano di gestione per salvare l'umanità Ha svolto la Sua opera di castigo Per rimuovere i ceppi e le restrizioni del peccato dall'umanità corrotta E le cause alla radice del peccato Per aiutare l'umanità a sfuggire completamente all'influenza di Satana Ed essere salvata da Dio Leggiamo altri due brani di Dio Onnipotente Dio Onnipotente dice Un peccatore come voi Che è stato redento ma non cambiato O perfezionato da Dio È in grado di essere compatibile con la volontà di Dio? Per te che sei ancora dominato dal tuo vecchio io È vero che sei stato salvato da Gesù E non sei considerato peccatore grazie alla salvezza di Dio Ma questo non dimostra che tu non sia peccaminoso e non sia impuro Come puoi essere santo se non sei stato trasformato? Dentro di te sei assediato dall'impurità Dall'egoismo e dalla cattiveria Eppure vuoi ancora discendere con Gesù E avere una simile fortuna Hai saltato un passaggio della tua fede in Dio Sei stato solo redento Non sei stato trasformato Perché tu sia secondo il cuore di Dio L'opera di trasformazione e di purificazione Deve essere compiuta personalmente da Lui Se sei solo redento Non sarai in grado di raggiungere la santità Di conseguenza non sarai qualificato Per prendere parte alle sante benedizioni di Dio Perché hai saltato un passaggio nell'opera di Dio Per la gestione dell'uomo Ossia il passaggio principale per la trasformazione e la perfezione Pertanto tu, peccatore che è stato solo redento Non puoi ricevere direttamente l'eredità di Dio Attraverso quest'opera di giudizio e di castigo L'uomo arriverà a conoscere a pieno La sostanza sudicia e corrotta dentro di sé E sarà in grado di cambiare completamente E di diventare puro Solo in questo modo Egli può essere degno di tornare davanti al trono di Dio Tutta l'opera compiuta in questo giorno Serve a rendere puro e a cambiare l'uomo Attraverso il giudizio e il castigo Tramite la parola e attraverso il raffinamento Egli può rigettare la propria corruzione ed essere reso puro Negli ultimi giorni Dio salverà completamente l'umanità dall'influenza di Satana Permettendole di diventare veramente compatibile con Cristo Di diventare un popolo che venera e ubbidisce a Dio L'unico modo per ottenere questo È attraverso l'opera di giudizio di Dio Onipotente negli ultimi giorni Solo attraverso le rivelazioni nelle parole di Dio Onipotente Le persone possono finalmente conoscere la verità su come sono state corrotte E conoscere l'indole giusta e maestosa di Dio Solo in questo modo le persone possono provare vero rimorso e pentimento Odiare la carne, ribellarsi a Satana, avere un cuore che teme Dio Sfuggire davvero all'influenza oscura di Satana Rivolgersi a Dio e venirne guadagnate Solo così l'umanità potrà finalmente essere salvata Ed entrare nel regno dei cieli Ringraziamo Dio Per tutti questi anni ho sofferto spesso E il circolo vizioso del peccato pentimento mi ha molto confuso Ascoltando ciò che hai condiviso oggi, mi sento liberata Amen! Anche se siamo stati redenti La nostra natura peccaminosa non è cambiata Ed è per questo che non siamo santi E non siamo idonei per il regno di Dio Necessitiamo della purificazione e del giudizio di Dio Come dice la Bibbia Siate dunque santi, perché io sono santo Se vogliamo diventare santi ed entrare nel regno di Dio Dobbiamo sottostare al suo giudizio degli ultimi giorni Grazie a Dio Ciò che hai condiviso è meraviglioso Ha risposto a così tanti dei miei dubbi Sembra che l'opera di giudizio di Dio negli ultimi giorni sia significativa e necessaria Leggiamo di più le parole di Dio Onipotente Sorelle, ciò che oggi avete condiviso contiene verità degne di essere studiate Sì Dobbiamo cercare queste verità Puoi prestarci questa copia di La parola appare nella carne? Ovviamente Possiamo trovare delle risposte alla nostra confusione attraverso le parole di Dio Onipotente La parola appare nella carne è l'espressione di Dio Onipotente Può leggerlo chiunque voglia cercare e studiare Non c'è da stupirsi se da così tanti anni non sento l'opera dello Spirito Santo Non importa come leggessi la Bibbia o quanto abbia pregato Non potevo ricevere l'illuminazione dallo Spirito Santo Risulta che Dio abbia iniziato la Sua opera degli ultimi giorni L'opera di giudizio che ha inizio nella casa di Dio Lo Spirito Santo ha cambiato luogo Avevo sentito che il lampo d'Alevante ha testimoniato che il Signore era tornato Ma non ho approfondito la questione Sapevo solo che cercavo delle risposte nei giganti spirituali e in quelli che godono di fama Ma non ho mai pensato di cercare gli urmi di Dio O una chiesa con l'opera dello Spirito Santo Ero così ignorante Distinguere tra la via vera e quella falsa richiede diversi aspetti della conoscenza fondamentale Il più importante dei quali è dire se ci sia l'opera dello Spirito Santo oppure no Perché la sostanza della fede dell'uomo in Dio è la fede nel Suo Spirito E anche questa fede in Dio incarnato si deve al fatto che questa carne è l'incarnazione del Suo Spirito Pertanto tale fede è ancora fede nello Spirito Esistono delle differenze tra lo Spirito e la carne Ma poiché questa carne viene dallo Spirito Ed è la parola fattasi carne Ciò in cui l'uomo crede è ancora l'essenza intrinseca di Dio Così, distinguendo se sia la vera via oppure no Devi guardare soprattutto se ci sia o no l'opera dello Spirito Santo Dopodiché, devi guardare se ci sia o no la verità in questa via Questa verità è l'indole della vita dell'umanità normale Ossia ciò che fu richiesto all'uomo quando Dio lo creò in principio Vale a dire tutta l'umanità normale Compresi il senno umano, l'intuito, la saggezza E la conoscenza basilare di essere uomo In altre parole, devi guardare se questa via conduca l'uomo Verso una vita di umanità normale oppure no Se la verità di cui si parla Si è necessaria in base alla realtà dell'umanità normale oppure no Se essa sia pratica e reale oppure no E se sia tempestiva oppure no Se c'è la verità, essa è in grado di portare l'uomo Verso esperienze normali e reali Egli inoltre diventa sempre più normale Il suo senno umano sempre più completo La sua vita nella carne e la vita spirituale sempre più ordinate E le sue emozioni sempre più normali Questo è il secondo principio Ce n'è un altro Ossia stabilire se l'uomo abbia una conoscenza sempre maggiore di Dio Oppure no Se sperimentare tale opera e tale verità Possa ispirargli l'amore per Dio E avvicinarlo ancora di più a Lui Oppure no Così si può valutare se sia la vera via oppure no L'elemento essenziale è se essa sia realistica anziché soprannaturale E se sia in grado di fornire la vita dell'uomo oppure no Se è conforme a questi principi Si può trarre la conclusione che è la vera via Leggo anch'io un brano di Dio Onnipotente Ok Studiare una cosa simile non è difficile Ma richiede che ciascuno di noi conosca questa verità Colui che è l'incarnazione di Dio Deve avere la sua sostanza e la sua espressione Poiché Dio si trasforma in carne Compirà l'opera che deve realizzare E dal momento che Egli si trasforma in carne Esprimerà ciò che è e sarà In grado di portare la verità all'uomo Dargli la vita e mostrargli la via La carne che non contiene l'essenza di Dio Non rappresenta certamente Dio incarnato Non c'è dubbio Per esaminare se si tratta dell'incarnazione di Dio L'uomo deve valutare l'indole che Egli esprime E le parole che pronuncia In altri termini Il fatto che Egli sia o non sia Dio in carne E che sia o non sia la vera via Deve essere giudicato dalla sua essenza E così, nello stabilire se si tratta di Dio in carne Il punto è prestare attenzione alla sua sostanza La sua opera, le sue parole, la sua indole E molto altro Anziché all'apparenza esteriore Se l'uomo vede soltanto la sua apparenza esteriore E trascura la sua essenza Ciò dimostra la sua ignoranza e la sua ingenuità Le parole di Dio Onipotente sono così pratiche Per più di un decennio ho letto tanti libri spirituali E ho ascoltato predicare tanti pastori Ma nessun uomo ha spiegato così chiaramente Come discernere la vera via Sì, amè Dio Onipotente indica tutti i principi Con cui distinguere la vera via È vero, sì La vera via contiene l'opera dello Spirito Santo E anche la verità Dà una risposta tempestiva ai bisogni E risponde alla confusione e alle difficoltà tangibili Della fede in Dio Riesce anche ad avvicinare le persone a Dio Le aiuta a conoscerlo più profondamente E inoltre le ispira ad amarlo Le parole di Dio Onipotente ci danno un metodo chiaro Per discernere la vera via da quella falsa Le parole di Dio Onipotente sono la verità Ben detto Se Dio Onipotente può dare alla gente la verità Ed esprimere l'indole di Dio E sta compiando l'opera di giudizio di Dio negli ultimi giorni Significa che Dio Onipotente è il Signore Gesù che è tornato Sì Ha ragione Leggiamo un brano di Dio Onipotente Sì D'accordo Il Cristo degli ultimi giorni dona la vita E offre la via duratura e perpetua della verità Questa verità è il cammino attraverso cui l'uomo guadagnerà la vita È l'unico cammino con cui egli conoscerà Dio e sarà da Lui approvato Se non cerchi la via della vita offerta dal Cristo degli ultimi giorni Non otterrai mai l'approvazione di Gesù E non avrai mai requisiti per varcare la porta del regno dei cieli Le parole di Dio Onipotente Però Dio Onipotente dice che Cristo degli ultimi giorni ha con sé la via della vita eterna Cosa significa tutto questo? Insomma, come dobbiamo interpretare le parole di Dio Onipotente? Su Ran e sua sorella potrebbero spiegarlo In modo da sapere come affrontare la cosa Vale la pena per tutti noi indagare l'opera di Dio Onipotente negli ultimi giorni Per questo chiediamo a Su Ran e alla sorella di testimoniare il Vangelo di Dio Onipotente degli ultimi giorni Possiamo anche chiedere ai collaboratori Feng, Zhu e agli altri della nostra chiesa di unirsi a noi Cosa ne pensate? È un'idea fantastica Benissimo Ho letto la parola di Dio Onipotente Mi è sembrata davvero chiara E sono sicura che è la verità Mi ha riempito di vita Ne ho tratto giovamento Però quando ho letto questo versetto delle parole di Dio Onipotente Solo il Cristo degli ultimi giorni può offrire all'uomo la via della vita eterna Mi sono ricordata delle parole del Signore Gesù Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in Lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna Sappiamo già che il Signore Gesù è la fonte dell'acqua che è la fonte dell'acqua viva della vita e la via della vita eterna Dio Onipotente e il Signore Gesù potrebbero essere la stessa fonte? La loro opera è dello Spirito Santo? La loro opera è svolta dallo stesso Dio? Non capiamo Per favore, parlacene Già Il Signore Gesù e Dio Onipotente si definiscono entrambi la via Penso che la loro opera sia dello stesso Spirito Dico bene o sto interpretando in modo sbagliato? Credo nel Signore da tanto E sono arrivata a credere nel Signore Gesù in quanto via della vita eterna Ma tu dici che solo Cristo degli ultimi giorni, che solo Dio Onipotente è la via della vita eterna Questo mi confonde, ma devo ammettere che non ho letto la parola di Dio Onipotente Penso che dovreste spiegarci perché solo Dio Onipotente, secondo voi, può darci la via della vita eterna Prima di poter accettare le vostre parole, ci dovete convincere È vero Se riuscite a testimoniare chiaramente che Dio Onipotente è la via della vita eterna, lo accetteremo Sì, farà Nell'opera delle due incarnazioni di Dio, essi hanno testimoniato che sono la verità, la via, la vita e la via della vita eterna Esprimono molte verità e conducono una fase di opera pratica per dimostrare che Cristo è la verità, la via e la vita Questo dimostra che provengono dalla stessa fonte Entrambi rappresentano lo Spirito Santo, compiono l'opera dello stesso Dio Ed entrambi testimoniano che Dio è la fonte della vita Perché la verità espressa da Dio è la sorgente eterna delle acque Che è il fiume della vita che scorre dal suo trono E la via della vita eterna Ciò dimostra ancora di più che Dio Onipotente è la seconda venuta del Signore Gesù E che entrambi compiono l'opera del Suo piano di gestione Ciò dimostra che il Signore Gesù è la manifestazione di Dio Il Signore Gesù predisse che sarebbe tornato come il figlio dell'uomo per compiere l'opera di giudizio negli ultimi giorni Leggiamo un brano di Dio Onipotente Per favore, andate a pagina 1018 Gesù e io veniamo da un unico Spirito Sebbene non siamo legati nella carne I nostri Spiriti sono una cosa sola Anche se il contenuto di ciò che facciamo e l'opera che intraprendiamo non siano gli stessi Siamo simili nell'essenza Le nostre carni assumono forme diverse Ma questo è dovuto al cambiamento di epoca e alle diverse necessità della nostra opera I nostri ministeri non sono simili Perciò l'opera che realizziamo e l'indole che noi riveliamo all'uomo sono anch'esse diverse I loro Spiriti sono una cosa sola Sebbene l'opera delle due carni incarnate sia diversa la loro essenza e la fonte della loro opera sono identiche In sostanza, esse esistono per compiere due fasi diverse dell'opera e sorgere in due età diverse In ogni caso, le carni incarnate di Dio condividono la stessa essenza e la stessa origine Questa è una verità che nessuno può negare Le parole di Dio Onnipotente ci dicono chiaramente che Dio Onnipotente e il Signore Gesù sono la carne assunta dallo Spirito di Dio Si differenziano solo per il fatto che conducono opere diverse in età diverse ma comunque sono un solo Dio Ora sappiamo che entrambe le volte che Dio si è incarnato testimonia di essere la fonte dell'acqua della vita e ha una sorgente infinità di acqua Testimonia anche che Dio stesso è la via della vita eterna Sebbene le loro parole differiscano leggermente l'essenza di ciò che dicono è esattamente la stessa Allora, qual è la vera via della vita eterna? Anch'io vorrei una risposta Già In che modo la vita eterna e l'entrata nel Regno dei Cieli sono collegate? Il Signore Gesù ha detto che solo obbedendo alla volontà del Padre entreremo nel Regno dei Cieli Coloro che obbediscono veramente sono quelli che mettono in pratica le Sue parole e obbediscono ai Suoi comandamenti Il Signore Gesù ha insegnato che dovremmo amare Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima e amare gli altri come noi stessi Abbiamo messo in pratica queste parole? Se non le abbiamo messe in pratica allora non stiamo facendo la volontà di Dio Se non sappiamo mettere in pratica i Suoi comandamenti come possiamo sperare di ottenere la via della vita eterna? Non lo faremo mai È vero La vita eterna significa ottenere tutta la verità espressa da Dio per salvare l'uomo e diventare persone che conoscono Dio e obbediscono alla Sua volontà Se crediamo in Dio ma non guadagniamo la verità non cambiamo la nostra indole della vita e soprattutto non obbediamo alla volontà di Dio crediamo davvero di poter entrare nel regno dei cieli Chi non entra nel regno dei cieli può guadagnare la vita eterna Non credo Coloro che non obbediscono alla volontà di Dio non guadagneranno la vita eterna La Bibbia dice Chi crede nel figliuolo ha vita eterna ma chi rifiuta di credere al figliuolo non vedrà la vita Credere nel figlio significa credere in colui che è stato mandato da Dio e credere nel Cristo incarnato Il Signore Gesù Cristo era il figlio dell'uomo è tornato in cielo dopo l'opera di redenzione Il Signore Gesù ci ha promesso che sarebbe tornato Quindi è fondamentale accettare Cristo ritornato negli ultimi giorni Chiunque accetti il Cristo ritornato negli ultimi giorni guadagnerà la via della vita eterna Se crediamo solo nel Signore Gesù e non accettiamo la Sua seconda venuta stiamo interrompendo il nostro rapporto con la fonte dell'acqua della vita Il Signore Gesù ci riconoscerebbe ancora Potremmo ancora ottenere la vita eterna Se crediamo nel Signore dobbiamo anche accettare la seconda venuta del Signore Gesù che è la vera fede nel Figlio Solo chi segue Cristo negli ultimi giorni guadagnerà la vita eterna Se ci limitiamo a credere nel Signore Gesù e invece rifiutiamo la Sua seconda venuta la nostra fede è uno spreco di energie un qualcosa di incompiuto e non otterremo mai l'approvazione del Signore Prima nella Bibbia ho letto Chi crede nel Figliuolo ha vita eterna Pensavo che credere nel Signore Gesù equivalesse a credere nel Figlio Ma dopo avervi ascoltate capisco molto meglio Non dobbiamo limitarci a credere nel Signore Gesù Dobbiamo accettare il Suo ritorno Solo così crediamo davvero nel Figlio e possiamo ottenere la vita eterna Sì, è vero, ha ragione Sì, come credenti stiamo aspettando il ritorno del Signore per ottenere la via della vita eterna Ora, testimoniate che il Signore Gesù è tornato e ha portato la via della vita eterna Non possiamo permetterci di perdere questa opportunità oppure la nostra fede nel Signore non sarà valsa proprio a niente Sì, la vita eterna ci è stata concessa dal Signore Gesù degli ultimi giorni Se riconosciamo solo il Signore Gesù ma non accettiamo il Suo ritorno non la otterremo Dobbiamo accettare l'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni Se questo è vero se crediamo nel Signore Gesù ma non accettiamo Dio Onnipotente non otterremo la vita eterna Esattamente Ciò che il Signore Gesù ha fatto nell'età della grazia è opera di redenzione Ha espresso la verità sulla redenzione dell'uomo che può solo aiutare le persone a confessarsi e a pentirsi Però, poiché la natura peccaminosa dell'uomo e la sua indole corrotta rimangono anche se i loro peccati sono stati perdonati spesso peccano ancora e si ribellano e cercano di resistere a Dio e questo è un dato di fatto È la prova che ciò che ha compiuto il Signore Gesù è stata l'opera di redenzione Solo il giudizio del Signore Gesù degli ultimi giorni può salvare l'umanità Permetterle di liberarsi dal peccato e dall'influenza di Satana e di riuscire a cambiare la propria indole Quindi, l'opera di giudizio compiuta dal Signore negli ultimi giorni è fondamentale per la salvezza dell'umanità Se accettiamo solo l'opera di redenzione del Signore e vogliamo entrare nel regno dei cieli senza accettare l'opera di giudizio del Signore Gesù abbiamo la testa fra le nuvole In realtà, il Signore Gesù disse Molte cose ho ancora da dirvi ma non sono per ora alla vostra portata Ma quando sia venuto Lui, lo Spirito della verità Egli vi guiderà in tutta la verità perché non parlerà di Suo ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire A quel tempo, nessuno capì le parole del Signore Gesù perché l'umanità era appena arrivata davanti a Dio ed era di scarsa statura morale Se il Signore Gesù avesse espresso le parole del giudizio l'uomo non l'avrebbe mai sopportato Dovevano aspettare l'arrivo di Dio Onnipotente perché fosse espressa tutta la verità che purifica, salva e rende perfetto l'uomo Guardando le parole di Dio Onnipotente ci siamo risvegliati comprendendo finalmente la volontà di Dio Perché Dio non ha compiuto direttamente l'opera di giudizio degli ultimi giorni nell'età della grazia? Perché ci sono tre fasi nel piano di gestione di Dio per salvare l'umanità Dio compie l'opera di giudizio negli ultimi giorni proprio come dice Dio Onnipotente Andiamo tutti a pagina 5 Benché Gesù compia molte cose tra gli uomini ha soltanto completato la redenzione di tutta l'umanità si è sacrificato per il peccato dell'uomo e non ha liberato l'uomo dalla sua indole corrotta Salvare completamente l'uomo dall'influenza di Satana non solo ha comportato il fatto che Gesù si facesse carico dei peccati dell'uomo come sacrificio per i peccati ma ha anche richiesto che Dio compisse un'opera maggiore per liberare completamente l'uomo dalla sua indole corrotta da Satana e perciò dopo che all'uomo sono stati perdonati i peccati Dio si è nuovamente incarnato per condurlo verso l'età nuova e ha iniziato l'opera di castigo e giudizio e quest'opera ha introdotto l'uomo in un regno più elevato Tutti coloro che ubbidiscono al suo dominio godranno di una verità superiore e riceveranno maggiori benedizioni vivranno realmente nella luce e guadagneranno la verità, la via e la vita L'opera di redenzione del Signore Gesù ha aperto la strada all'opera di giudizio e purificazione negli ultimi giorni La verità che salverà, cambierà e infine perfezionerà l'uomo sarà espressa dal Signore Gesù una volta tornato Questa verità è la via della vita eterna conferita all'uomo da Dio Onnipotente Perciò, se vogliamo ricevere la via della vita eterna la chiave è accettare il ritorno del Signore Gesù Il Signore Gesù disse Ecco, io sto alla porta e picchio Se uno ode la mia voce ed apre la porta io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco Poiché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata Beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello Quelli che accettano la seconda venuta di Cristo sono vergini sagge Quando udiranno la voce di Dio, proprio loro decideranno di andare con l'agnello al banchetto Queste persone sono benedette e si dice abbiano seguito le orme dell'agnello Loro sono le primizie purificate dal giudizio di Dio Onnipotente negli ultimi giorni e perciò sono rese vincitrici da Lui in persona Quindi, solo chi accetta la seconda venuta di Cristo guadagnerà la via della vita eterna Grazie alla tua condivisione, capisco che Dio Onnipotente è il Signore Gesù ritornato e che sono lo stesso Dio Non è affatto contraddittorio che Dio Onnipotente e il Signore Gesù dicano entrambi di essere la via della vita eterna Prima pensavamo di guadagnare la vita eterna accettando la via del pentimento del Signore Gesù È vero Ora comprendiamo che la vita eterna arriva col ritorno del Signore negli ultimi giorni Per questo dobbiamo accettare l'opera di Dio Onnipotente negli ultimi giorni per guadagnare la via della vita eterna Esatto! Il Signore Gesù ha compiuto l'opera di redenzione e Dio Onnipotente compie l'opera di giudizio negli ultimi giorni Sebbene svolgano un'opera molto diversa provengono dalla stessa fonte ed è per questo che il Signore Gesù e Dio Onnipotente dicono entrambi di essere la via della vita eterna Queste parole sono state pronunciate da Dio Non è vero che la parola di Dio Onnipotente è l'acqua del fiume della vita che scorre dal trono? Esattamente! Dobbiamo seguire le orme del Signore Se non accettiamo la via della vita eterna concessa da Dio Onnipotente non ci stiamo forse privando della fonte di acqua viva? Dio Onnipotente è il ritorno del Salvatore che stavamo cercando da anni Non ho forse ragione È una questione seria Visto che sono appassite le anime dobbiamo rifornirci di acqua viva Dio Onnipotente negli ultimi giorni ha espresso verità Non è questo ciò di cui abbiamo bisogno? Dovremmo esaminare più da vicino questa questione Sì, hai ragione È fantastico Si è ringraziato Dio Adesso ho capito che il Signore Gesù e Dio Onnipotente sono lo stesso Dio ma compiono un'opera diversa in età diverse Il Signore Gesù ha compiuto la redenzione e ha predicato la via del pentimento Negli ultimi giorni Dio Onnipotente deve giudicare e purificare l'uomo e gli porta la via della vita eterna Ho ancora un'altra domanda Qual è la differenza tra la via del pentimento e la via della vita eterna? Esatto Ancora non c'è molto chiaro quest'ultimo aspetto Spiegheresti meglio questo punto? Poiché Dio Onnipotente e il Signore Gesù sono lo stesso Dio fanno doni all'uomo in ugual misura quindi perché c'è differenza? Non saprei Già, io saprei Yahweh Dio e il Signore Gesù sono lo stesso Dio Credete che entrambi abbiano fatto doni all'uomo in ugual misura? Yahweh Dio ha decretato leggi affinché l'uomo vi si attenesse Il Signore Gesù ha portato la redenzione e ha chiesto il pentimento Sono opere diverse Siete d'accordo che queste opere sono compiute da un solo Dio? Sì Assolutamente Sono state compiute da un solo Dio Signori, c'è un solo Dio e diciamo che la Sua opera di salvezza nei confronti dell'umanità non è compiuta in una o due fasi Ci sono tre fasi nel piano di gestione di Dio per salvare l'umanità La verità espressa da Dio in ogni fase è diversa e varia e viene approfondita così da diventare perfetta soltanto alla fine di tutto Dio conduce un'opera diversa nel corso dell'età e in base ai bisogni dell'uomo quindi il modo in cui Dio fa dei doni all'uomo in ogni epoca è diverso e si modifica Voi chiedete qual è la differenza tra la via del pentimento e la via della vita eterna e questa è una domanda fondamentale È una verità che ogni vero credente in Dio deve capire alla perfezione perché è legata a come l'uomo conosce la verità e si guadagna la vita eterna Sì Ora, tutti noi sappiamo che il Signore Gesù compì l'opera di redenzione nell'età della grazia e diede all'uomo la via del pentimento Come disse il Signore Gesù Il che vuol dire che l'uomo dovrebbe confessare i suoi peccati e pentirsi di fronte a Dio per entrare nel regno dei cieli Dopo aver confessato i peccati precedenti tali peccati saranno perdonati L'uomo non peccherà più si pentirà e rinascerà ancora È proprio questo il pentimento Ma a quel tempo il Signore Gesù insegnò all'uomo solo a confessare i propri peccati a non commetterli a non fare del male a rinnegare se stesso a portare la croce in spalla e dopo a seguire il Signore ad amarlo con tutto il cuore l'anima e anche la mente ad amare gli altri come se fossimo noi con umiltà, sopportazione e pazienza a perdonare gli altri 70 volte 7 e così via Queste sono le modalità del pentimento Quando l'uomo confessa i suoi peccati e si pente davanti a Dio questi peccati saranno perdonati e questo gli permetterà di pregare davanti a Dio ed essere in comunione davvero con Lui e di godere della generosa grazia e della verità date da Dio Ma ciò che non possiamo negare è che anche se i peccati dell'uomo sono perdonati la sua natura peccaminosa esiste ancora e può ancora tradire e opporsi a Dio stesso Questo prova che anche se i peccati dell'uomo possono essere perdonati Egli può comunque peccare molte altre volte e non può diventare santo Il Signore Gesù ha compiuto la redenzione che permette all'uomo di confessarsi pentirsi dei peccati tornare da Dio e godere anche della grazia da Lui stesso donata Ciò dimostra che la verità espressa dal Signore Gesù è la via offerta all'uomo per pentirsi E proprio come dice Dio Onipotente All'epoca, Gesù si era limitato a pronunciare ai Suoi discepoli una serie di sermoni nell'età della grazia Per esempio, su come fare pratica come riunirsi come chiedere nella preghiera come trattare gli altri e così via L'opera che Egli portò a termine era quella dell'età della grazia ed Egli spiegò soltanto ai discepoli e a coloro che Lo seguivano come dovessero fare pratica Svolse soltanto il lavoro dell'età della grazia e nulla che fosse degli ultimi giorni L'opera di Dio in ogni epoca ha dei confini ben delineati Egli svolge soltanto l'opera dell'epoca attuale e non svolge mai in anticipo la fase successiva dell'opera Solo in questo modo la Sua opera rappresentativa di ciascun periodo può essere portata in primo piano Gesù aveva parlato unicamente dei segni degli ultimi giorni di come essere pazienti e di come essere salvati come pentirsi e confessarsi nonché come portare la croce e sopportare la sofferenza Non parlo mai di come l'uomo negli ultimi giorni dovesse entrare o come cercare di soddisfare la volontà di Dio I peccati dell'uomo poterono essere perdonati attraverso il sacrificio per il peccato Ma l'uomo non è riuscito a risolvere il problema di come non peccare più e di come la sua natura peccaminosa possa essere rigettata completamente e trasformata I peccati dell'uomo furono perdonati grazie all'opera della crocifissione di Dio Ma l'uomo continuò a vivere nella vecchia indole satanica corrotta Egli dunque deve essere completamente salvato dall'indole satanica corrotta cosicché la sua natura peccaminosa venga rigettata completamente e non si sviluppi mai più permettendo così di cambiare l'indole dell'uomo Ciò richiede che Egli comprenda il cammino della crescita nella vita la via della vita e il modo di cambiare la propria indole Impone anche che Egli agisca in conformità a questo cammino cosicché l'indole dell'uomo possa cambiare gradualmente ed Egli possa vivere sotto lo splendore della luce e fare tutte le cose in conformità alla volontà di Dio rigettare l'indole satanica corrotta e liberarsi dall'influenza satanica delle tenebre emergendo così pienamente dal peccato solo allora l'uomo riceverà la salvezza completa Le parole di Dio Onnipotente ci dicono chiaramente che il Signore Gesù ha compiuto l'opera di redenzione e ci ha dato solo la via del pentimento ma non ci ha dato la via della vita eterna per abbandonare la natura satanica e perciò poter diventare santi e poi negli ultimi giorni Dio Onnipotente sulla base dell'opera di redenzione del Signore Gesù ha compiuto l'opera di giudizio che ha inizio nella casa di Dio e dalla via della vita eterna Solo accettando la via della vita eterna data da Dio Onnipotente negli ultimi giorni le persone possono obbedire alla volontà di Dio sfuggire completamente all'influenza oscura di Satana e quindi entrare di diritto nel regno di Dio Le parole di Dio Onnipotente sono pratiche Nell'età della grazia Dio ha potuto compiere solo l'opera di redenzione ed è per questo che anche se ci siamo pentiti per i nostri peccati non ci siamo liberati dalle loro catene Indipendentemente dall'impegno con cui abbiamo lavorato non abbiamo raggiunto la santità Ma finalmente ora capisco che l'opera di giudizio di Dio negli ultimi giorni è l'opera che consente all'umanità di sfuggire al peccato e all'influenza di Satana Dio Onnipotente offre la via della vita eterna e ci mostra come liberarci dal peccato e raggiungere la santità Finalmente abbiamo la speranza di sfuggire alla maravita che ci fa peccare di giorno e confessare di notte Ci è utile avvicinarci all'opera degli ultimi giorni di Dio Onnipotente Tuttavia, sorella riusciresti a darci una spiegazione più specifica e più chiara sulla via della vita eterna è la cosa che più ci urge sapere in questo momento Proprio adesso abbiamo parlato della via del pentimento e penso che abbiate tutti capito Ora vi vorrei parlare di com'è la via della vita eterna e successivamente parlerò delle differenze tra la via del pentimento e la via della vita eterna La via della vita eterna non è solo una semplice confessione o il pentimento stiamo parlando della via della verità che è dalla vita eterna Entrando nello specifico, parliamo di come si guadagna la salvezza liberandosi di Satana Come si guadagna la verità intesa come vita Come si diventa compatibili con Dio e si viene guadagnati da Lui Questa è la via della vita eterna Quindi, chi ottiene la via della vita eterna riceve anche la verità E quelli che guadagnano la verità come vita sono persone che Dio ha reso complete e che possono entrare nel regno dei cieli Non sono queste le persone che ottengono la via della vita eterna? E coloro che guadagnano la verità intesa come vita potrebbero mai opporsi a Dio e poi tradirlo? No, no, certo Come si può? Coloro che entreranno nel regno dei cieli potranno mai morire o essere mandati all'inferno? No, no, no Pertanto, chiunque guadagna la verità intesa come vita conoscerà Dio e quindi otterrà la via della vita eterna, non è così? Direi che ora dovremmo dare un'occhiata alle parole di Dio Onipotente sull'argomento Potrei leggere io? Fai pure Andiamo a pagina 1460 Il Cristo degli ultimi giorni dona la vita e offre la via duratura e perpetua della verità Questa verità è il cammino attraverso cui l'uomo guadagnerà la vita è l'unico cammino con cui egli conoscerà Dio e sarà da Lui approvato L'opera negli ultimi giorni mette a nudo l'opera di Yahweh e di Gesù e tutti i misteri non compresi dall'uomo Ciò viene fatto per rivelare la destinazione e il fine dell'umanità e per concludere tutta l'opera di salvezza tra gli uomini Questa fase dell'opera negli ultimi giorni porta tutto a termine Tutti i misteri non compresi dall'uomo devono essere svelati per consentire all'uomo di penetrarli e di avere una comprensione chiara nel proprio cuore Solo allora gli uomini potranno essere suddivisi secondo la specie Tutti i misteri non compresi dall'uomo saranno rivelati Tutte le verità non comprese precedentemente saranno chiarite e l'umanità sarà informata del suo cammino e della sua destinazione futuri Questa è tutta l'opera da svolgere in questa fase In questa fase finale dell'opera i risultati si raggiungono attraverso la parola Attraverso la parola l'uomo arriva a comprendere molti misteri e l'opera di Dio in tutte le generazioni passate Attraverso la parola egli viene illuminato dallo Spirito Santo Attraverso la parola egli arriva a capire i misteri mai svelati dalle generazioni passate Nonché l'opera dei profeti e degli apostoli dei tempi passati e i principi secondo cui operavano Attraverso la parola egli arriva anche a conoscere l'indole di Dio stesso Nonché l'insubordinazione e la resistenza dell'uomo e arriva a conoscere la propria sostanza Attraverso queste fasi dell'opera e tutte le parole pronunciate l'uomo arriva a conoscere l'opera dello Spirito l'opera della carne incarnata di Dio e inoltre la sua intera indole Durante gli ultimi giorni Cristo utilizza una serie di verità per insegnare all'uomo rivelarne l'essenza e analizzare le sue parole e le sue azioni Queste parole comprendono diverse verità quali il dovere dell'uomo come l'uomo dovrebbe obbedire a Dio come dovrebbe essergli fedele come dovrebbe vivere la normale umanità così come la saggezza e l'indole di Dio e così via Queste parole sono tutte dirette all'essenza dell'uomo e alla sua indole corrotta In particolare le parole che rivelano come l'uomo rifiuta Dio vengono pronunciate a proposito di come l'uomo sia la personificazione di Satana e una forza nemica di Dio Quando Dio compie il lavoro di giudizio Egli non si limita semplicemente a chiarire la natura dell'uomo solo con poche parole ma compie la rivelazione, il trattamento e la potatura a lungo termine Tale metodo di rivelazione, di trattamento e di potatura non può essere sostituito con parole ordinarie ma con la verità che l'uomo non possiede affatto solo tale modo di lavoro viene considerato giudizio Solamente attraverso tale giudizio l'uomo può essere persuaso pienamente convinto all'ubbidienza verso Dio e inoltre può ottenere la vera conoscenza di Dio Ciò che il lavoro di giudizio realizza è la comprensione da parte dell'uomo del vero volto di Dio e la verità riguardo alla sua ribellione Il lavoro di giudizio permette all'uomo di ottenere molta comprensione della volontà di Dio, dello scopo della sua opera e dei misteri che non possono essere compresi dall'uomo Inoltre consente all'uomo di riconoscere e conoscere la sua sostanza corrotta e le radici della sua corruzione come pure di scoprire la sua bruttezza Questi effetti si realizzano tutti tramite il lavoro di giudizio perché la sostanza di tale lavoro è di fatto l'opera di svelare la verità la via e la vita di Dio a tutti coloro che hanno fede in Lui Dalle parole di Dio Onipotente possiamo notare che la via della vita eterna non è qualcosa di semplice che può essere insegnato con poche regole né la tendenza dell'uomo a peccare e a opporsi a Dio può essere risolta in pochi passaggi L'umanità è stata profondamente corrotta da Satana e se non è vero, obbedire, avere timore di Dio e amarlo veramente diventare compatibili con Lui allora devono comprendere molti aspetti della verità Ed è proprio per questo motivo che negli ultimi giorni Dio compie l'opera di giudizio che ha inizio nella casa di Dio ed esprime tutte le verità necessarie per sfuggire all'influenza di Satana e raggiungere la salvezza Quindi, la via della vita eterna è più complessa di quanto si pensi è composta da molti, molti aspetti della verità Se sperimentando l'opera di Dio negli ultimi giorni le persone comprendono nella loro interezza le verità che ha espresso per salvarci ed entrano nella realtà della verità allora potranno ottenere un cambiamento di indole nella loro vita e diventare veramente gente che obbidisce a Dio Sono loro a guadagnare la via della vita eterna Ma qual è la via della vita eterna? Non vedo l'ora di saperlo Sono le verità che Dio esprime negli ultimi giorni per garantire la nostra salvezza L'opera di Dio negli ultimi giorni è di infondere queste verità nell'uomo in modo che diventino la sua vita Le persone che vivono a piano queste parole di Dio guadagneranno la via della vita eterna Non importa quanto profondamente si sperimenti la verità delle parole di Dio finché possediamo la realtà di varie verità a un determinato livello allora viviamo con le sembianze di un vero uomo siamo uomini onesti e obbediamo realmente a Dio ci comportiamo in modo irreprensibile abbiamo timore di Dio ed evitiamo il male possediamo la verità e l'umanità e guadagniamo la via della vita eterna nel momento in cui otteniamo la via della vita eterna sfuggiamo all'influenza di Satana il che significa che non pecchiamo più e non tradiamo Dio tramite la vera conoscenza di Dio possiamo ottenere un cambiamento di indole possiamo obbedire a Dio adorarlo, amarlo, diventare compatibili con Lui e ovviamente obbedire alla Sua volontà quando guadagneremo la via della vita eterna non moriremo mai godremo delle benedizioni di Dio e otterremo l'ingresso nel regno dei cieli leggiamo un altro passo di Dio Onnipotente adesso leggo io dopo che l'umanità avrà intrapreso il retto cammino le persone avranno normali esistenze umane compiranno tutte il proprio rispettivo dovere e saranno completamente fedeli a Dio si saranno totalmente liberate della propria disobbedienza e indole corrotta e vivranno per Dio e in ragione di Dio non vi sarà in loro disobbedienza né resistenza alcuna saranno in grado di obbedire a Dio in tutto e per tutto questa è la vita di Dio e dell'uomo e la vita del regno ed è la vita di riposo riposo sul trono coricandomi sull'intero universo e sono pienamente soddisfatto poiché tutte le cose hanno ritrovato la propria sacralità e io posso tornare a dimorare pacificamente a Sion e i popoli sulla terra possono condurre una vita felice e serena sotto la mia guida tutti i popoli governano ogni aspetto nella mia mano tutti i popoli hanno riconquistato la loro passata intelligenza e l'aspetto originario essi non sono più rivestiti di polvere ma nel mio regno sono puri come Giada e il volto di ciascuno somiglia a quello del sacro nel cuore dell'uomo poiché il mio regno si è stabilito fra gli uomini nel regno la vita del popolo di Dio con Dio è incomparabilmente felice le acque danzano per la vita benedetta degli uomini le montagne godono con gli uomini della mia abbondanza tutti gli uomini si impegnano lavorano duramente dimostrano la loro lealtà nel mio regno nel regno non vi è più ribellione non vi è più resistenza i cieli e la terra sono interdipendenti l'uomo e io siamo vicini e nutriamo sentimenti profondi attraverso le felicità della vita stringendoci assieme vi abbiamo sentito testimoniare che la verità di Dio Onipotente è la via della vita eterna realizza veramente ciò che ha detto il Signore Gesù ma quando sia venuto Lui lo Spirito della verità Egli vi guiderà in tutta la verità non abbiamo mai sentito la verità espressa negli ultimi giorni da Dio Onipotente queste verità sono molto pratiche ne abbiamo veramente bisogno sono verità che abbiamo bisogno di capire e di vivere solo comprendendo e ricevendo queste verità possiamo riuscire a obbedire alla volontà di Dio entrare nel suo regno e godere delle sue benedizioni è vero le verità espresse da Dio Onipotente sono ricche e aprono gli occhi non c'è da meravigliarsi se Dio Onipotente dice che solo Cristo degli ultimi giorni può dare all'uomo la via della vita eterna se noi accettiamo la verità espressa da Dio Onipotente il nostro spirito non dovrà mai più vivere nell'aridità e nell'oscurità questa è la benedizione di Dio per noi ringraziamo Dio Onipotente finalmente abbiamo una fonte di acqua viva anche noi esatto sembra di essere in una foresta arida in cui la pioggia ora placa la nostra sete hai ragione siamo così fortunati ad essere nati negli ultimi giorni è vero il Signore Gesù che stavamo aspettando è tornato e ora possiamo godere dell'acqua della vita che scorre dal trono questa è un'opportunità così incredibile esatto è scritto sì è così è una grazia di questo voi dite che solo coloro che obbediscono a Dio ricevono la via della vita eterna da quando abbiamo iniziato a credere abbiamo sofferto e pagato il prezzo per diffondere il Vangelo del Signore abbiamo pasciuto il Suo gregge portato la Sua croce e l'abbiamo seguito abbiamo praticato umiltà pazienza e tolleranza e ora dite che non abbiamo seguito la volontà di Dio sappiamo che se continuiamo a farlo diventeremo santi e saremo condotti nel regno dei cieli volete dire che questo modo di mettere in pratica la parola del Signore è sbagliato? è vero chiunque soffra e lavori per il Signore obbedisce alla volontà del Padre Celeste al momento della Sua venuta saremo rapiti e condotti nel regno dei cieli Amen Dalle vostre nozioni si comprende che se lavorate o fate sacrifici o compiete buone azioni state soltanto obbedendo alla volontà del vostro Dio ma non c'è nient'altro che vi spinge a compiere ciò che state facendo sono nozioni vicine al cuore di Dio sapete dirmi se hanno una qualche base nella parola di Dio? il Signore disse non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli molti mi diranno in quel giorno Signore, Signore non abbia noi profetizzato in nome Tuo e in nome Tuo ho cacciato demoni e fatte in nome Tuo molte opere potenti e allora dichiarerò loro io non vi conobbi mai dipartitevi da me voi tutti operatori di iniquità quindi dalle parole del Signore Gesù possiamo capire che quelli che profetizzano scacciano i demoni e fanno molte opere meravigliose nel Suo nome sono coloro che soffrono e compiono opere per il Signore loro servono il Signore Dio gli dedicano anche tutto il loro tempo e si comportano molto bene ma perché il Signore Gesù li chiama operatori di iniquità allora come lo dovremmo intendere? dalle vostre nozioni chiunque soffra e lavori per il Signore si adoperi e si sacrifichi obbedisce alla volontà di Dio persino i capi sacerdoti gli iscrivi e i farisei nell'ebraismo sembravano molto pi hanno viaggiato in lungo e in largo per predicare il Vangelo allora perché il Signore Gesù li ha condannati e maledetti? ve lo siete chiesto? già non ci avevo pensato non ne valeva la pena rifletterci su non è vero? è vero ha ragione sì ha ragione non possiamo stabilire noi l'obbedienza alla volontà di Dio usando nozioni umane la vera obbedienza alla volontà di Dio si riferisce alle persone in grado di obbedire alla Sua opera che mettono in pratica le Sue parole seguono i Suoi comandamenti e adempiono ai loro doveri secondo la volontà e i requisiti di Dio tu dici che coloro che soffrono e lavorano per il Signore obbediscono alla volontà di Dio quindi valutiamoli secondo i requisiti dati dal Signore Gesù qual era il requisito più importante per l'uomo secondo il Signore Gesù? ama il Signore il Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua questo è il grande e il primo comandamento il secondo simile ad esso è ama il tuo prossimo come te stesso ma secondo voi noi lo stiamo facendo? no secondo me no obbedire alla volontà di Dio significa amarlo con tutto il cuore con l'anima e infine con la mente non importa quanto lavoriamo o quanto soffriamo non ci devono essere ambizioni personali o impurità perché dobbiamo essere dediti unicamente a soddisfare Dio e così compiere la Sua volontà dobbiamo essere lieti di sacrificare tutto per Dio senza ricompensa di fronte alle prove che Dio ci mette davanti non dobbiamo lamentarci e nemmeno provare a tradirlo ma metterci a disposizione delle decisioni di Dio così come Abramo Giobbe e Pietro quando arrivano le prove di Dio noi dobbiamo accettarle con obbedienza e senza lamentele o domande e testimoniare Dio in modo forte e clamoroso questo significa obbedire alla Sua volontà date tutte queste richieste dovrebbe essere ovvio se siamo o meno persone che obbediscono veramente alla volontà del Padre Celeste ne vediamo molti capaci di soffrire lavorare e sacrificarsi dopo aver trovato la fede ma nella sofferenza e nel sacrificio troviamo il desiderio personale e l'ambizione cercano ricompense per entrare nel Regno dei Cieli questo non significa usare e frodare Dio in che modo dobbiamo mettere in pratica la verità per soddisfare Dio ma è in corso una tragedia ancora più grande anche se i pastori e gli anziani del mondo religioso spesso lavorano e predicano all'interno delle proprie chiese e dall'esterno sembrano compiere buone azioni quando però Dio Onnipotente compie l'opera di giudizio negli ultimi giorni essi al fine di proteggere la propria posizione influenza e le proprie entrate economiche giudicano senza sosta condannano e profanano Dio Onnipotente e cercano di impedire ai credenti di esaminare la vera via nel fare questo non diventano nemici di Dio questi atti sono forse tanto diversi dai crimini dei farisei che resistettero al Signore Gesù questi fatti bastano per dimostrare che le persone non conoscono Dio che la loro natura satanica rimane in vita e che non hanno ricevuto la verità come vita anche quelli che soffrono lavorano e si sacrificano per Dio lo fanno per contrattare con Lui credono in Dio ma lo fanno con l'obiettivo di ottenere delle future benedizioni queste persone non mettono affatto in pratica le parole di Dio non si preoccupano della Sua volontà e ancor meno manifestano i segni di obbedienza e di amore come potrebbero queste persone obbedire alla volontà di Dio allora e sarebbero idonee ad entrare nel regno dei cieli e guadagnare la vita eterna leggiamo un brano di Dio Onipotente io decido la destinazione di ciascuna persona non in base all'età all'anzianità alla quantità di sofferenza nemmen che meno al grado in cui suscitano compassione ma in base al fatto che possieda la verità non c'è altro criterio di scelta che questo dovete rendervi conto che tutti coloro che non seguono la volontà di Dio saranno puniti questo è un dato di fatto immutabile Dio decide la destinazione di ogni uomo non sulla base di quanto lavoro svolga o di quante siano le sue sofferenze ma sulla base del fatto che possieda la sua verità metta in pratica la sua parola e obbedisca la sua volontà perché solo coloro che obbediscono alla volontà di Dio sono idonei per il regno dei cieli e per guadagnare la vita eterna questo è deciso dall'indole giusta di Dio e non può essere mai cambiato quindi tutti dobbiamo riflettere sul cammino che abbiamo fatto per credere in Dio perché mentre crediamo e decidiamo di seguire Dio pecchiamo e addirittura Gli resistiamo è la conseguenza della natura peccaminosa nascosta dentro a tutti noi vista la nostra natura peccaminosa è molto difficile obbedire e amare Dio in modo vero la nostra natura peccaminosa rende difficile evitare di contrattare e di guadagnare benedizioni mentre ci sacrifichiamo per Dio la nostra natura peccaminosa crea la mentele negatività e tradimento in noi stessi di fronte alle prove di Dio quindi con la nostra natura peccaminosa non possiamo davvero obbedire alla volontà del nostro Dio e come possiamo diventare santi allora? è del tutto impossibile per riuscire ad obbedire alla volontà di Dio e quindi diventare santi dobbiamo risolvere il problema della nostra natura pertanto se non accettiamo l'opera di giudizio e castigo di Dio Onnipotente noi non riceveremo mai la Sua approvazione se non sperimentiamo l'opera di giudizio di Dio negli ultimi giorni non riceveremo mai la verità non otterremo un cambiamento di indole e non saremo mai secondo il cuore di Dio questo purtroppo è un dato di fatto innegabile ringraziamo Dio più ascolto e più cose capisco la sofferenza e il duro lavoro e il sacrificio non equivalgono a obbedire alla volontà di Dio obbedire alla volontà di Dio è mettere in pratica le Sue parole e seguire i comandamenti in passato ci siamo concentrati sul sacrificio e non abbiamo messo in pratica le parole di Dio se i fatti stanno così abbiamo una lunga strada da percorrere per obbedire alla Sua volontà è vero ora ho capito che se vogliamo seguire la volontà di Dio ci viene richiesto non soltanto molto impegno dobbiamo accettare l'opera di giudizio di Dio Onnipotente diventare santi ricevere la salvezza e guadagnare la verità intesa come vita prima di poter ricevere la via della vita eterna e obbedire veramente alla volontà di Dio è vero in passato il concetto di obbedienza alla volontà di Dio era semplicistico pensavamo che soffrire e lavorare significasse obbedire alla volontà di Dio ora finalmente capisco che per essere obbedienti alla volontà di Dio dobbiamo accettare il giudizio davanti al trono di Cristo allora capiremo la verità e avremo una vera conoscenza di Dio quando avremo la verità intesa come vita non peccheremo più non ci opporremo e non tradiremo Dio ecco come faremo a obbedirgli e ad amarlo veramente in questo modo obbediremo veramente alla volontà di Dio l'opera di Dio è davvero molto pratica sia ringraziato Dio esatto senza la condivisione di oggi vivremo ancora immersi nella nostra immaginazione pensando di obbedire alla volontà di Dio in attesa del regno dei cieli sì ma a me sembra che ambizioni e desideri interferiscano ancora con la nostra fete non stiamo mettendo in pratica la parola di Dio quindi come pensiamo di entrare nel regno dei cieli? giusto possiamo entrare nel regno dei cieli solo se accettiamo l'opera di giudizio di Dio onnipotente negli ultimi giorni se noi non accettassimo l'opera di giudizio e purificazione di Dio onnipotente negli ultimi giorni e continuassimo a cercare come facevamo prima senza guadagnare mai l'approvazione di Dio allora potremo considerarci del tutto sfortunati e senza nulla da mostrare è vero questa condivisione mi è stata utile per capire anche se abbiamo sofferto e fatto sacrifici dopo aver iniziato a credere in Dio la nostra natura peccaminosa e satanica non è stata purificata ci sono ancora desideri personali che interferiscono con la fede soffriamo e lottiamo per avere delle ricompense per entrare nel regno dei cieli il che significa che non stiamo obbedendo alla volontà di Dio e non siamo idonei per il regno dei cieli dobbiamo accettare il giudizio e il castigo di Dio onnipotente negli ultimi giorni e ricevere la via della vita eterna espressa da Lui prima di diventare coloro che obbediscono alla Sua volontà e di entrare nel regno dei cieli sì vorrei fare un'altra domanda ora se accettiamo l'opera di Dio onnipotente negli ultimi giorni in che modo dovremmo cercare di ricevere la via della vita eterna? infatti abbiamo sentito quello che hai detto riguardo alle parole di Dio onnipotente ciò di cui ci hai parlato è pratico ed è stato di grande aiuto sembra che l'opera di giudizio di Dio onnipotente sia l'opera che salva e perfeziona l'umanità è la via della vita eterna che Dio ci concede ma vorrei domandare in che modo dovremmo accettare l'opera di giudizio e castigo di Dio onnipotente per ottenere la via della vita eterna vorrei ascoltare qualcosa di più specifico riguardo a questo aspetto si è ringraziato il Signore è veramente Dio a guidarci in ogni cosa avete già fatto delle domande che avrei voluto fare tanto anch'io posso dire che stiamo comunicando nello spirito si è ringraziato il Signore sempre si è ringraziato attraverso quanto abbiamo detto finora le parole di Dio onnipotente ci stanno di certo aiutando a capire che solamente accettando l'opera di giudizio degli ultimi giorni possiamo ottenere la via della vita eterna credo di aver capito che abbiamo tutti sete della via della vita eterna stiamo ricevendo grazie e benedizioni da Dio vi starete chiedendo in che modo guadagnare la via della vita eterna questa è una domanda necessaria ed è proprio ciò che tutti vogliono più urgentemente capire perché Dio onnipotente negli ultimi giorni esprime nella sua interezza la verità che può salvare l'umanità tali verità sono espresse secondo la nostra sostanza corrotta e secondo ciò di cui siamo carenti il che significa che sono la realtà della verità che dovremo avere Dio onnipotente vuole che riceviamo queste verità come vita eterna questa verità è la via della vita eterna che ci ha donato Dio stesso quindi come possiamo cercare di guadagnare la via della vita eterna allora Dio onnipotente ci ha già tracciato un cammino pratico da seguire leggiamo qualche altro brano di Dio onnipotente vorrei leggere io Il lavoro degli ultimi giorni sarà quello di dividere tutti in base alla loro specie per concludere il piano di gestione di Dio poiché il tempo è vicino e il giorno di Dio è arrivato Egli conduce tutti coloro che sono entrati nel suo regno vale a dire tutti coloro che sono stati leali con Lui fino alla fine nell'età di Dio stesso Tuttavia prima della venuta dell'età di Dio stesso il lavoro che Egli desidera compiere non è quello di osservare le imprese dell'uomo o di indagare sulla sua vita ma di giudicare la sua ribellione dato che Dio deve purificare tutti coloro che si presentano dinanzi al suo trono tutti coloro che hanno seguito le orme di Dio fino ad oggi sono quelli che sono venuti dinanzi al trono di Dio Estando così le cose ogni singola persona che accetta l'ultima parte dell'opera di Dio è oggetto della sua purificazione In altre parole ogni persona che accetta la parte finale del lavoro di Dio è oggetto del suo giudizio L'odierna opera di conquista mira a riottenere tutta la testimonianza e tutta la gloria e a far sì che tutti gli uomini adorino Dio affinché vi sia testimonianza nel creato Ciò è quanto deve essere compiuto in questa fase dell'opera In che modo esattamente si deve conquistare l'uomo? Con il lavoro delle parole per convincerlo appieno tramite la rivelazione il giudizio il castigo e la maledizione impietosa per sottometterlo completamente rivelandone l'insubordinazione e giudicandone la resistenza affinché egli possa conoscere l'iniquità e la lordura dell'umanità che verranno usate per rimarcare l'indole giusta di Dio Soprattutto sarà l'uso di queste parole a conquistare l'uomo e a convincerlo appieno Le parole sono lo strumento per la conquista definitiva dell'umanità e tutti coloro che accettano la conquista devono sopportare il colpo e il giudizio delle parole L'attuale processo della parola è il processo di conquista in che modo esattamente le persone dovrebbero collaborare nutrendosi e dissetandosi con efficacia di queste parole e comprendendole la gente non può conquistarsi da sé nutrendosi di queste parole arriva a conoscere la propria corruzione e l'ordura la propria ribellione e iniquità e impara a prostrarsi dinanzi a Dio se riesci a comprendere la volontà di Dio e poi a metterla in pratica e ad avere anche la visione e se riesci a obbedire completamente a queste parole senza esercitare nessuna delle tue scelte allora sarai stato conquistato e saranno queste parole ad averti conquistato in questa epoca Dio usa soprattutto la parola per governare tutto attraverso la parola di Dio l'uomo viene giudicato e reso perfetto per poi essere portato nel regno soltanto la parola di Dio può fornire la vita dell'uomo e soltanto la parola di Dio può dare la luce all'uomo e la via della pratica specialmente nell'età del regno finché ti nutrirai quotidianamente della sua parola e non abbandonerai la realtà della parola di Dio egli potrà renderti perfetto andiamo a pagina 45 adesso vorrei leggere io ora il fattore chiave è concentrarsi sulla vita mangiare e bere di più delle mie parole sperimentarle conoscerle farle diventare realmente la tua vita questa è la cosa principale la vita di qualcuno che non è in grado di vivere secondo le parole di Dio può maturare? no non può devi vivere secondo le mie parole in ogni momento nella vita le mie parole devono essere il tuo codice di condotta esse ti faranno sentire che fare le cose in un certo modo è ciò di cui Dio si rallegra mentre agire in un altro modo è ciò che Egli odia lentamente arriverai a percorrere la strada giusta ora io leggerò un altro brano di Dio Onnipotente se una persona riesce veramente a entrare nella realtà delle parole di Dio dagli elementi e dalle parole a essa richiesti sarà una persona perfezionata da Dio si può dire che per questa persona l'opera e le parole di Dio sono completamente efficaci che le parole di Dio diventano la sua vita che ottiene la verità e può vivere secondo le parole di Dio dopo questo la natura della sua carne cioè il fondamento della sua esistenza originale sarà scossa e cadrà quando un essere umano vive le parole di Dio diventa una nuova persona le parole di Dio diventano la sua vita la visione dell'opera di Dio le sue prescrizioni per l'uomo la sua rivelazione per l'uomo e i principi della vera vita che egli richiede all'uomo di realizzare diventano la sua vita e gli vive in conformità a queste parole e a queste verità e questa persona viene resa perfetta dalle parole di Dio tramite le sue parole sperimenta la rinascita e diventa un uomo nuovo si è ringraziato Dio dalla parola di Dio Onnipotente possiamo osservare che l'opera di Dio negli ultimi giorni è l'opera della parola Dio usa la parola per giudicare purificare l'uomo e renderlo perfetto e se noi vogliamo ottenere la via della vita eterna dobbiamo accettare e obbedire al giudizio e al castigo degli ultimi giorni davanti al trono di Cristo mangiando e bevendo la parola di Dio e accettando il giudizio e il castigo di essa comprendendo così la verità di Dio venendo a conoscenza della sua indole giusta trovando il timore nei nostri cuori e sperimentando la sua parola per comprendere quale sia la verità e in questo modo vivere la realtà di essa questo è l'unico modo che esiste per ricevere la via della vita eterna noi tutti sappiamo ovviamente che solo la parola espressa da Dio onnipotente negli ultimi giorni può purificare salvare l'uomo e renderlo perfetto se vogliamo ottenere la via della vita eterna dobbiamo mangiare e bere le parole di Dio onnipotente e sperimentarle perché la corruzione satanica in noi è profonda viviamo nel peccato e ci affanniamo ciecamente per proteggere il nostro destino non conosciamo la differenza tra bene e male e non conosciamo la sostanza della nostra natura e la verità sulla corruzione non capiamo il desiderio di Dio e non lo conosciamo neanche non comprendiamo ciò che Dio ama e nemmeno ciò che non ama né possiamo scrutare la sostanza malvagia di Satana viviamo semplicemente secondo la nostra natura satanica cerchiamo la fama e anche la fortuna ci lasciamo coinvolgere in intriga ammiriamo il potere e il male confondiamo bianco e nero indulgiamo nell'avidità e nei nostri desideri e così via viviamo nell'ombra di immagini demoniaca e di Satana senza somigliare mai a dei veri umani solo Dio è la verità la via e la vita le verità espresse da Dio sono la rivelazione della sua indole di ciò che Lui ha ed è per l'uomo la verità è giudizio la verità è castigo la verità è esame e per l'uomo la verità è purificazione è possibile che sentiamo avvicinarsi l'indole giusta di Dio anche prima che le sue stesse parole si avvicinino a noi come quando vediamo la manifestazione di Dio e i nostri cuori allora lo temono sentiamo di essere meschini sudici e piccoli vediamo la verità della nostra corruzione da parte di Satana e quanto siamo lontani dal soddisfare i requisiti e quando attraverso la pratica arriviamo a capire meglio la verità proviamo vergogna e ammonimento per le azioni che sentiamo che non sono vicine al cuore di Dio la verità è una specie di esame e perciò nelle azioni che noi compiamo e nei sentieri che percorriamo la verità ci serve da guida e diventa il principio mediante il quale noi tutti parliamo e agiamo quando ciò accade la verità diventa la nostra vita possiamo vedere che la verità può cambiare le persone cambia decisamente la loro indole e le perfeziona anche la verità ha valore e significato profondi per l'esistenza dell'uomo quindi se accettiamo la verità intesa come vita che è espressa da Dio Onnipotente negli ultimi giorni possiamo ottenere un cambiamento nella nostra indole della vita e possedere la verità e l'umanità che prima ci mancavano pertanto noi siamo quelli che sono stati perfezionati e possiedono la verità che sono sfuggiti all'influenza di Satana e sono stati guadagnati da Dio coloro che Gli obbediscono lo amano seguono la Sua volontà e sono compatibili con Lui noi siamo le persone che guadagnano la via della vita eterna ringraziamo il Signore anche se sapevo che il Signore Gesù una volta ha detto le parole che vi ho dette sono spirito e vita non ho mai capito cosa volessero dire quelle parole attraverso ciò che avete condiviso su Dio Onnipotente lo sto capendo solo la parola di Dio può purificare l'uomo cambiarlo e dargli la possibilità di una nuova vita proprio come disse il Signore Gesù non di pane soltanto vivrà l'uomo ma di ogni parola di Dio Amen se noi viviamo di solo pane e senza la parola di Dio siamo zombie che vivono nell'oscurità che vivono sotto il gioco e la corruzione di Satana non distinguiamo bene e male e non abbiamo scopi nella vita tutto ciò che possiamo fare è vivere nel male come bestie le verità che vengono espresse da Dio Onnipotente fungono all'uomo da luce che gli garantisce la salvezza questa è la vita che noi umani dovremmo avere accettare la salvezza Dio Onnipotente è davvero il ritorno del Signore Gesù il Signore Gesù disse ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete anzi l'acqua che io gli darò diventerà in Lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna quelle parole sono state compiute e ora sono diventate realtà la verità espressa da Dio Onnipotente negli ultimi giorni è abbondante possiamo dire che si tratti davvero di una fonte inesauribile di acqua viva per noi uomini quanto più ci pensiamo tutti quanti tanto più diventa perfetta e dolce ringraziamo Dio Onnipotente sì ringrazio esatto mi serve leggere la parola di Dio Onnipotente sì la tua condivisione è molto pratica ci insegna tanto e ci mostra una via già ma vorremmo sapere come avete sperimentato il giudizio e il castigo di Dio Onnipotente come avete vissuto e come avete messo in pratica la verità espressa da Dio Onnipotente certo vogliamo saperlo se ci date una testimonianza dell'esperienza di giudizio e castigo di Dio Onnipotente ci convincereste facilmente è vero ci convinceremo sì vogliamo ascoltare ringrazio Dio vi racconterò alcune delle mie esperienze e delle mie conoscenze in passato quando credevo nel Signore anch'io lavoravo predicavo la Sua parola e portavo la croce cercavo di essere paziente e amorevole ma non capivo quello che il Signore mi chiedeva e consideravo alcune parti della parola del Signore come regole rigide alla fine dopo anni di fede nel Signore non avevo ancora avuto nessun cambiamento e spesso mi ritrovavo a compiere peccati e a oppormi a Dio di fronte a tante difficoltà e privazioni protestavo contro Dio e Lo incolpavo poiché spesso non riuscivo a liberarmi dalle catene del peccato allora mi sentivo in difficoltà e intorto verso il Signore solo quando ho finalmente accettato l'opera di giudizio di Dio Onnipotente ho capito di essere misera perché la mia natura satanica non era stata eliminata non capendo la verità spesso pecchiamo e ci opponiamo a Dio Onnipotente è come dice Dio Onnipotente la fonte della resistenza e il ribellione dell'uomo verso Dio è la sua corruzione ad opera di Satana essendo l'uomo stato corrotto da Satana la sua coscienza è divenuta insensibile l'uomo è immorale i suoi pensieri depravati e i suoi schemi mentali sono arretrati prima che fosse corrotto da Satana l'uomo seguiva Dio e obbediva alle sue parole naturalmente era dotato di una ragione e una coscienza naturali nonché di una normale umanità a seguito della corruzione di Satana la sua ragione coscienza e la sua umanità originarie si sono intorpidite e sono state compromesse da Satana egli ha perciò perduto l'obbedienza a Dio e l'amore per Lui la ragione dell'uomo si è fatta aberrante la sua indole come quella di un animale e la sua insubordinazione verso Dio sempre più frequente e grave ciò nonostante l'uomo continua a non saperlo e a non riconoscerlo e non fa altro che opporsi e ribellarsi ciecamente ora leggerò un altro brano di Dio Onipotente in passato quando le parole di Dio non si erano ancora trasformate nella vita delle persone in esse aveva preso il sopravvento e dominava la natura di Satana quali elementi specifici facevano parte di questa natura? ad esempio perché sei egoista? perché devi proteggere la tua posizione? perché le tue emozioni sono così forti? perché ami le cose ingiuste? e perché ami i malvagi? qual è l'origine di queste cose? da dove vengono? adesso ormai voi tutti avete capito che questo avviene soprattutto a causa del veleno di Satana dentro di voi la natura del veleno di Satana può essere spiegata completamente a parole ad esempio se chiedete ad alcuni malfattori perché lo fai? essi risponderanno ognuno per sé il resto al diavolo questa frase esprime l'origine del problema la logica di Satana si è trasformata nella vita delle persone e indipendentemente da ciò che fanno per uno scopo o per l'altro esse lo fanno solo per se stesse ognuno per sé il resto al diavolo questa affermazione di Satana è proprio il veleno e quando viene interiorizzata dall'uomo ne diventa la natura attraverso questa affermazione viene messa a nudo la natura di Satana essa la rappresenta completamente questo veleno diventa la vita dell'uomo e il fondamento della sua esistenza l'umanità corrotta ne è stata costantemente dominata per migliaia di anni ogni cosa che Satana fa è per sé stesso vuole superare Dio liberarsene ed esercitare il potere Lui stesso e possedere tutte le cose che Dio ha creato quindi la natura dell'uomo è la natura di Satana dopo le parole di Dio Onnipotente ho capito anche se temporaneamente passione e fede possono ispirarmi a predicare il Vangelo a lavorare e a portare la croce però la corruzione satanica è troppo radicata ogni tipo di veleno satanico costituisce la mia natura diventando il principio stesso con cui esisto e vivo la mia disposizione satanica è spudoratamente arrogante disonesta ingannevole egoista e direi anche spregevole come tutte le persone faccio tutto a mio beneficio per quanto riguarda la mia fede penso a guadagnare benedizioni ed entrare nel regno dei cieli è per questo che quando mi trovo davanti a prove che danneggiano i miei interessi carnali inizio a inventare nozioni su Dio lo incolpo mi oppongo a Lui e lo tradisco è un dato di fatto non riesco a evitarlo dopo essere stata giudicata castigata e potata dalle parole di Dio Onnipotente ho iniziato a conoscere meglio la mia natura satanica e ho visto l'arroganza l'egoismo l'avidità e l'inganno tutti rivelati nella mia indole satanica tutto quello che ho fatto è stato per il mio stesso bene per trarne beneficio persino la mia fede in Dio era per guadagnare benedizioni e grazia la mia sofferenza e il mio sacrificio dovevano portarmi a entrare nel regno dei cieli non era per mettere in pratica la verità o obbedire a Dio avevo completamente perso il senso e la coscienza insiti nell'uomo ma la verità espressa da Dio Onnipotente mi ha aiutato a capire che per vivere l'uomo ha bisogno almeno di buonsenso e di coscienza è giusto e doveroso adempiere al dovere di un essere creato non importa se ci toccano benedizioni o sventure dobbiamo essere leali e non tentare di contrattare attraverso la mia esperienza dell'opera di Dio Onnipotente ho compreso il desiderio di Dio di salvare l'umanità Dio ci dà delle prove e ci affina per purificarci e anche per cambiarci e ciò dimostra la cura e la preoccupazione di Dio nel garantire la salvezza io ho visto il vero amore di Dio per l'umanità sono arrivata a prendere una decisione e ho lasciato la famiglia per testimoniare Dio dedicandogli tutto il mio tempo indipendentemente dalla mia sofferenza sapevo di dover obbedire alle disposizioni di Dio indipendentemente dal fatto di avere benedizioni o sventure di ogni tipo sapevo di dover adempiere al mio dovere alla perfezione e di dover ripagare l'amore di Dio non potevo più portare nel mio lavoro per il Signore i miei scopi e gli obiettivi personali e cercare sempre di entrare nel regno dei cieli mi dovevo sacrificare volontariamente e felicemente per Dio non contrattare o chiedere ricompense tutto ciò che potevo fare era ripagare l'amore di Dio e mettere in pratica la verità per soddisfarlo questo è il mio unico desiderio negli anni in cui ho creduto in Dio sono riuscita persino a capire un po' della verità e anche la stessa realtà questa è la cosa più importante che ho imparato dalla fede certo sono ancora lontana dall'essere all'altezza degli standard ma per me questi sono stati i frutti dell'opera degli ultimi giorni di Dio Onnipotente e ringrazio Dio Onnipotente per avermi salvato ringraziamo Dio la tua testimonianza è utile hai detto quello che avrei voluto sentire abbiamo bisogno di ascoltare testimonianze come questa esatto questo è il tipo di testimonianza che ci serve ehi sorella Tian parla della tua esperienza sì voglio ascoltare ancora sì anche io vorrei tanto ascoltarla grazie alla mia esperienza dell'opera di Dio Onnipotente ho davvero guadagnato tanto non solo ho acquisito una certa conoscenza dell'opera dell'indole e del desiderio di Dio di salvare l'umanità ma ho anche sperimentato la purificazione e il cambiamento della mia indole satanica ero una persona incredibilmente arrogante mi mettevo al di sopra degli altri e odiavo sottomettermi a qualcuno mi piaceva vantarmi mettermi in mostra esibire il mio lavoro e dare lezioni volevo che tutti mi guardassero mi ammirassero e mi adorassero più tardi ho accettato l'opera di Dio Onnipotente degli ultimi giorni e ho letto queste sue parole ci sono persone che idolatrano particolarmente Paolo amano tenere discorsi e mettersi in vista amano riunirsi e parlare gli piace quando la gente le ascolta le adora le circonda amano essere collocate su un piedistallo nei pensieri altrui e apprezzano quando gli altri tengono da conto la loro immagine se questo individuo si comporta realmente così allora c'è sufficiente a dimostrare che si tratta di una persona arrogante e presuntuosa che non adora affatto Dio che ricerca uno status elevato e che desidera esercitare l'autorità sugli altri dominarli occupare un posto importante nei loro pensieri ciò che emerge della sua natura sono l'arroganza e la presunzione la riluttanza ad adorare Dio e il desiderio di essere oggetto dell'adorazione altrui si tratta della classica immagine di Satana per esempio poiché covi arroganza e presunzione dentro di te non puoi trattenerti da resistere a Dio non lo fai intenzionalmente ma sei guidato dalla tua indole arrogante e presuntuosa la tua superbia e il tuo orgoglio ti fanno disprezzare Dio ti portano a non avere nessun riguardo per Lui ad esaltare te stesso a metterti costantemente in mostra e alla fine a sederti al suo posto e a rendere testimonianza per te stesso a lungo andare trasformi le tue idee la tua mentalità e le tue concezioni in verità da adorare guarda quanto male commettono le persone sotto il dominio della loro natura arrogante e presuntuosa per risolvere questo problema occorre prima risolvere quello della loro natura senza un cambiamento di indole non è possibile estirpare questo problema alla radice nel giudizio e nella rivelazione delle parole di Dio Onipotente ho visto che la sostanza della mia natura era arrogante e disobbediente alla verità mi comportavo così dentro al mio cuore non c'era posto per Dio né per nessun altro la mia immagine era costruita e volevo farmi notare ho sempre desiderato che gli altri mi riservassero un posto nei loro cuori volevo che mi ascoltassero e mi obbedissero non stavo cercando di rubare le persone a Dio proprio come Satana fa da molto più tempo di me non tentavo di essere l'arcangelo perciò questa era una grave offesa per l'indole di Dio era la via per diventare un anticristo dopodiché ho cominciato a tremare di paura ho capito che se la mia natura arrogante fosse rimasta e invariata avrei potuto stare al posto di Dio sollevarmi e testimoniare me stessa avrei potuto fare cose cattive e oppormi a Dio e alla fine essere punita da Lui attraverso la mia esperienza dell'opera del giudizio di Dio Onnipotente ho visto che c'era molto da amare nella sostanza della vita Dio è il creatore di tutto e si è incarnato due volte per salvare l'umanità dalla corruzione umilmente nascosto serbando insulti e umiliazione è infine giunto tra gli uomini concedendo silenziosamente la salvezza mentre vive e risiede con noi tra di noi mi sono sentita in colpa e ho sentito troppa vergogna per affrontare Dio Dio che è supremo si è umiliato e si è nascosto io a quel punto essere umano corrotto inferiore perfino a un verme ho cercato di sollevarmi e lottare con Dio per una posizione non avevo umanità nessun buonsenso ero spudorata non conoscevo altro modo nel duro giudizio e nella rivelazione di Dio ho assaporato l'indole giusta e maestosa di Dio un'indole che non tollera l'offesa dell'uomo gradualmente sono arrivata ad avere timore di Dio e ho iniziato a odiare e maledire la mia originaria natura satanica avrei voluto esporre e sezionare la mia sostanza corrotta e ho saputo rinunciare a me stessa ho esaltato Dio l'ho testimoniato e ho iniziato a mettere in pratica la verità usandola come principio di azione senza rendermene conto la mia indole arrogante ha cominciato a cambiare ho iniziato a obbedire alle parole che fratelli e sorelle dicevano essere in accordo con la verità ho anche recuperato parte della coscienza e del buonsenso e ho iniziato ad imparare ad accettare e a sottostare ad altri mi sentivo rilassata e tanto libera allora e in effetti avevo qualche sembianza di un uomo vero ho sentito veramente che le parole di Dio Onipotente possono cambiare e purificare tutte le persone questi sono i frutti della mia esperienza diretta dell'opera di Dio Onipotente negli ultimi giorni ringrazio Dio sia glorificato Dio Onipotente ringraziamo Dio con la tua testimonianza so che Dio Onipotente è un Dio che vede all'interno dei cuori delle persone mette a nudo la corruzione nei meandri più profondi dello spirito dell'uomo e lo convince pienamente non lascia all'uomo altra scelta che tornare a Dio e conoscere se stesso vedo l'egoismo la bassezza e l'arroganza nella mia natura ho creduto in Dio per ottenere benedizioni e ricompense dopo aver guadagnato una posizione ed essere andata in giro per Dio ho guardato dall'alto in basso le altre persone ho sempre desiderato un posto nel cuore degli altri la parola di Dio Onipotente dà la vita a tutti noi dobbiamo essere giudicati e castigati dallo stesso Dio perché questo è l'unico modo in cui possiamo realmente conoscerci e rivolgerci a Lui pentirci e cambiare veramente le parole di Dio Onipotente sono come una spada affilata espongono l'opposizione dell'uomo a Dio con tale precisione e in modo così accurato nel giudizio e nella purificazione delle sue parole non abbiamo più nulla da provare se non vergogna solo accettando il giudizio nelle parole di Dio Onipotente possiamo abbandonare la corruzione ed essere salvati crediamo nel Signore da tanti anni e abbiamo solo sentito testimonianze di grazia e pace ma oggi avete testimoniato di sapere eliminare la corruzione ed entrare nella realtà della verità l'opera di giudizio negli ultimi giorni è molto più intensa e profonda dell'opera di redenzione si occupa dell'indole corrotta dell'uomo lo aiuta a sfuggire a Satana e a ottenere la salvezza esatto non l'avremmo mai saputo se non lo avessimo sentito da voi la loro esperienza è molto più profonda di quella che possiamo testimoniare noi loro sono già arrivati nell'età del regno mentre noi siamo ancora bloccati nell'età della grazia questa è davvero la prima volta che sentiamo una testimonianza simile è vero e la loro testimonianza è stata così sincera sì ringraziamo Dio davvero si è ringraziato oggi ho tratto grande giovamento dalla predicazione più ascolto e più tutto acquista un senso devo andare a leggere la parola di Dio Onnipotente sembra che Dio Onnipotente stia davvero compiendo l'opera dell'età del regno accettando l'opera di giudizio di Dio negli ultimi giorni si entra direttamente nel regno noi però siamo in ritardo ci siamo persi nel deserto non vi sembra? loro sono già arrivati a Canaan mentre noi stiamo ancora vagando nel deserto siamo state vergini stolte davvero troppo stolte si è ringraziato Dio si è ringraziato oggi abbiamo ascoltato varie esperienze perciò è l'acqua viva che scorre dal trono di Dio ad essere il nostro nutrimento è il frutto che viene dallo sperimentare il giudizio e il castigo di Cristo si è glorificato Dio Onnipotente leggiamo un altro brano di Dio Onnipotente va bene fratelli, sorelle leggiamo insieme ora abito sulla terra e vivo in mezzo agli uomini tutti gli uomini stanno facendo esperienza del mio lavoro e osservano la mia parola e con questo io faccio dono di tutte le verità a ciascuno dei miei seguaci in modo che possano ricevere da me la vita e ottenere un sentiero da percorrere poiché io sono Dio il datore della vita nel tempo soltanto il Dio di oggi opera in questo modo e soltanto Egli parla all'uomo e così facendo lo salva dopodiché l'uomo vive sotto la guida della parola ed è appasciuto e alimentato dalla parola gli uomini vivono nel mondo della parola nelle maledizioni e nelle benedizioni della parola di Dio e ancora più persone vivono sotto il giudizio e il castigo della parola stessa queste parole e quest'opera sono tutte per la salvezza dell'uomo per realizzare la volontà di Dio e per cambiare l'aspetto originale del mondo della creazione antica Dio ha creato il mondo con la parola conduce gli uomini nell'universo con la parola li conquista e li salva con la parola per concludere Egli userà la parola per porre fine all'intero vecchio mondo solo allora il suo piano di gestione sarà interamente completo Cristo degli ultimi giorni Dio Onnipotente esprime molte verità queste verità sono la parola che dà all'uomo la vita e l'acqua del fiume della vita che scorre dal trono oggi noi giungiamo davanti al trono di Dio Onnipotente ad ascoltare la voce che esce dalla sua bocca e ad accettare la sua salvezza Dio ci ha davvero risollevati e ci ha dato una grande benedizione si è ringraziato grazie applausi Leggiamo un altro brano di Dio Onnipotente. Ok, leggiamo! L'umanità del futuro non conterrà più alcuna traccia di questo genere di persone. Tali persone non sono adatte ad entrare nella terra del riposo definitivo, né sono adatte ad entrare nel giorno del riposo che Dio e l'uomo condivideranno, poiché sono oggetto della punizione e poiché sono i malvagi e non coloro che sono giusti. Ora leggerò io un altro brano. Va bene. La vita nel riposo è una vita senza guerra, senza l'ordura, senza il persistere dell'ingiustizia. Ciò significa che manca del tormento di Satana. Qui Satana si riferisce alle forze ostili, della corruzione di Satana, così come dell'invasione di qualsiasi forza che si opponga a Dio. Ogni cosa procede secondo la propria natura e rende lode al Signore della creazione. Cielo e terra sono totalmente tranquilli. Quindi questa è la vita dell'umanità nel riposo. Si è ringraziato Dio. Si è ringraziato. È vero. Leggerò un altro brano di Dio Onnipotente. Sì. Va bene. Che bello. Quando l'umanità sarà stata riportata alle proprie originarie sembianze, quando l'umanità potrà adempiere ai rispettivi doveri, mantenere il posto che le appartiene in obbedienza a quanto disposto da Dio, Dio avrà ottenuto un gruppo di persone sulla terra che lo adorano e avrà anche stabilito un regno sulla terra che gli renda lode. Egli avrà vittoria eterna sulla terra e coloro che gli si oppongono periranno per l'eternità. Ciò ripristinerà la sua originaria intenzione nella creazione dell'uomo. Ripristinerà la sua originaria intenzione nella creazione di tutte le cose e anche la sua autorità sulla terra, fra tutte le cose e fra i suoi nemici. Questi sono i simboli della sua totale vittoria. Si è ringraziato Dio. Si è ringraziato Dio. Si è ringraziato Dio. Si è ringraziato. Avevamo visto la profezia del Signore Gesù nella Bibbia e diceva che sarebbe tornato negli ultimi giorni per separare il grano dalla zizzagna. Non capiva cosa volesse dire. In realtà, Dio negli ultimi giorni avrebbe usato il giudizio e il castigo nella Sua parola per smascherare ogni uomo. Quelli che credono veramente in Dio amano la verità e riescono ad accettare e a ubbidire al giudizio e al castigo di Dio. Saranno quindi salvati da Dio. Queste persone sono il grano. Coloro che alla fine raggiungeranno la salvezza e saranno perfezionati e quelli idonei per entrare nel bellissimo regno che Dio ha preparato per l'uomo. Quelli che sono stanchi della verità, che la odiano e si oppongono all'opera di Dio degli ultimi giorni, saranno considerati malvagi. Queste persone sono zizzagna e la loro fine è quella di perire al fianco di Satana. L'opera di Dio, invece, è così pratica, onnipotente e saggia. Esatto! Capisco finalmente che questo è ciò che significava la parabola del grano e della zizzagna nella Bibbia. È vero, sì! Sì, giusto! Le parole di Dio onnipotente sono davvero illuminanti per tutti noi. È vero, sì. Lo sono. In passato speravamo che il Signore ci sollevasse per vivere in cielo. Ora capiamo quanto eravamo ignoranti e anche ridicoli. Il posto che Dio ha preparato per l'umanità è la terra stessa. Dio stabilirà il Suo regno sulla terra degli uomini e coloro che sono stati salvati e purificati entreranno nel regno di Dio. Adoreranno Dio sulla terra e godranno della vita meravigliosa che Dio ha preparato per l'uomo nel Suo regno. C'è una profezia nell'Apocalisse. Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. La parola di Dio onnipotente rivela tutta la verità di questo mistero. Finalmente capiamo il significato della profezia. È vero, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. È vero, è vero, è vero, è vero. È vero, è vero, è vero, è vero. Per evitare questo nutrimento della Sua vita. Adesso cantiamo Un fiume d'acqua di vita per lodare Dio. Sì. Molto volentieri. Un fiume d'acqua di vita, Limpido come cristallo scaturisce dal trono di Dio e dell'Agnello. Sulle rive del fiume sta l'albero della vita che a dodici tipi di frutto porta un frutto ogni mese. Le foglie dell'albero sono per guarire le nazioni. Non ci sarà più nulla di maledetto. Il trono di Dio e dell'Agnello saranno nella città. I servi lo serviranno e vedranno il suo volto, il suo volto. Porteranno il suo nome in fronte. Non ci sarà più notte. Non servirà nessuna candela, nemmeno la luce del sol. perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. E regneranno nei secoli dei secoli. Per il Signore Dio è finito i ascolti. Grazie a tutti.